questo programma è offerto da scegliete voi facciamo i conti porti via più monti tu uguale prezzi d'ingrosso FBA di Bruno Corso Potenza 183 angolo di Alucento Torino un proglione domenica 21 novembre 2021 un saluto da parte di Enrico Anzerli benvenuti a una nuova puntata di Vrestling Caffè come sempre bel po' di persone dietro i microfoni anche se ci diciamo come posso dire andremo un po' no a parte fin troppe ma poi comunque ci divideremo ci divideremo durante la puntata vai fin troppe soprattutto per non inficiarne la qualità cioè quello è un altro quello è un altro problema quello è un altro problema anche se siamo in tanti la qualità fa sempre schifo esatto esattamente quello quello questo è poco questo è poco ma sicuro vai esatto l'importante è che ci avviciniamo alla puntata demoniaca esatto manca poco esattamente esatto se stiamo pian pianino diciamo andando verso diciamo verso verso il magico numero non so ho perso il conto di quante puntate siamo ma non manca 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 un mesetto più o meno dai perché un mesetto sì saranno quattro puntate esatto sì perché quella è quella prima di Natale infatti la puntata questo dovrebbe essere un 660 e fate i calcoli voi esatto esattamente 662 dovrebbe essere questo esatto quindi quindi quando poi quando come scusa non ho capito se dobbiamo arrivare poi al 666 il numero della bestia che sarà quella diciamo la puntata una puntata una puntata malvagia esatto buongiorno mattia di noi ciao buongiorno a gianluca ruggio sei in collegamento perché vedo che presente abbiamo già fatto stai tranquillo tranquillo non ti non ti dobbiamo sottoponiamo non ti sottoponiamo alla tortura esatto non ti sottoponiamo alla tortura non ti sottoponiamo alla tortura non ti sottoponiamo alla tortura e viva per previo di impact con due morti ma che due morti ma smettila muoieranno di edwards e matt cardona sì ma ma matt cardona dopo che ha fatto i deathmatch la vedo un po' difficile che possa morire e di edwards diciamo che è già più possibile effettivamente guarda che la w bomb uccide chiunque quindi morris ne può fare anch'i 6 o 7 non avrei guarda non avrei niente di contrario personalmente da quel punto di vista comunque buongiorno la morte di edwards o di cardona di edwards di cardona diciamo dopo 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 che è andato in gcw mi spiacerebbe un pochettino di più non ha mai affrontato the w da bi morris la sua powerbomb ricordati la più letale di tutto lo sport d'entertainment e pro est possiamo andare avanti per cortesia grazie mille no precisavo giustamente Morris come ha detto Mattia capisce la differenza tra wrestling e intertenzione la miglior mossa in tutti i due settori esatto che voglia specificarlo va bene grazie Gianluca e salutiamo anche Alessia Di Donato che è collegata con noi buongiorno Alessia ciao ricordo questo tempo ciao ragazzi ciao Gianluca esatto da ieri sera vi promettiamo che parleremo di Dynamite Rampage in modo più rapido rispetto alla puntata di AEW Italia che ho registrato con Mattia Vitale e Alessia Di Donato ieri sera che potete trovare tra l'altro già se ci state ascoltando di domenica sulle varie piattaforme cercate la puntata è la puntata numero 70 mi sembra di AEW Italia perfetto facciamo il compleanno delle 70 puntate che non esiste non esiste una cosa del genere non esiste ma è stata inventata adesso il compleanno dell'anniversario non esiste si fa è una puntata è una puntata faccio una domanda priva dell'annuncio dell'anno o con l'annuncio dell'anno ovvero del match più bello di tutta la storia no è priva perché l'abbiamo registrata prima di Rampage quindi poi ci arriveremo ci arriveremo successivamente io sono qui apposta scusa eh esatto ne parliamo poi dopo ne parliamo poi dopo ma cominciamo io dobbiamo parlare di pro-restling no comincerei comincerei diciamo la puntata di quest'oggi di Resting Caffè parlando di Mutande Rosa o meglio Dipping Sleep che è un termine inglese che vuol dire licenziamenti perché c'è stata un'altra data di licenziamenti in Davide io non ho io non ho molto da dire rispetto a due settimane beh grazie ne abbiamo parlato due settimane fa di licenziamenti sarebbe molto molto ripetitivo ridondante esatto facciamo l'elenco di chi è stato licenziato e basta sì esatto vabbè tutti gli itro in blocco praticamente quelli che rimanevano quantomeno sì secondo me sai che ha anche influito quel tweet di Top Dolla in risposta a Ginder Mal che molta gente non ha preso molto bene Top Dolla diciamo che si è fatto benvolere in queste sette settimane di permanenza nel main roster del gruppo sui social non so se è stato quello il motivo no neanch'io però diciamo che non ha aiutato la coincidenza c'è diciamo che non ha aiutato esatto diciamo che non ha aiutato da quel punto di vista comunque sì è stato licenziato come detto Top Dolla è stato licenziato Shane Strickland Shane Strickland penso che comunque rimbalzerà abbastanza penso che comunque lui un posticino non necessariamente nei W però sì in MLW magari anche nei W volendo c'è comunque uno che sa lavorare quindi comunque puoi metterlo oppure in MLW visto che c'è il revival di Luce Underground con Aztec Underground chi meglio di Kishot effettivamente esatto potrebbe tornare Kishot puoi anche rimetterlo lì senza senza grossi problemi un peccato lui è un gran peccato sì lui tra l'altro mi ha parlato molto bene anche Adam Cole di lui praticamente in un'intervista anche abbastanza recente aveva detto che comunque stava facendo molto bene a NXT adesso quando aveva fatto l'intervista era appena diventato campione nordamericano e ha detto nel giro di un anno vedrete quello che sa fare questo qua lo vedremo da altre parti evidentemente non sicuramente in WWE poi abbiamo come abbiamo detto a Shanti Adonis l'abbiamo visto pochino comunque sa fare non è un brutto un brutto ruolo però diciamo siamo all'inizio per quanto riguarda lì potrebbe essere diciamo potrebbe essere diciamo un diciamo come posso dire potrebbe essere un po' più difficile per lui diciamo trovare spazio in una in una compagnia medio grande diciamo magari ripartendo un pochettino più dalle indie si può ricostruire perché comunque c'è tempo l'impatto è perfetto per lui vero vero verissimo anche quello Tegan Nox mi spiace moltissimo per lei anche a me anche a me lei penso che è un'altra che può rimbalzare benissimo anche in AEW anche in AEW possibile ma anche per i suoi rapporti banalmente con Rubisoco ci sta ci sta e non mi dispiacerebbe devo dire vai vai no vai Mattia no dicevo lei forse potrebbe aver pagato la storia clinica potrebbe non è detto stiamo parlando lei ha 23 anni credo comunque esatto lei è molto giovane è molto giovane va detto che è meglio vero vero però meglio verde adesso a 35 anni c'è tempo per recuperare evidentemente però sì 23 anni a 27 nel 94 però comunque non cambia molto il discorso comunque meglio avere adesso questo tipo di problemi che averti magari lei paga lei paga quello che sempre succede praticamente in questa in WWE quando splittano un tech team cioè non sempre non sempre in realtà quasi sempre però perché comunque ci sono numerosi casi di tech team in realtà non l'hanno neanche mai provata in singolo no no infatti volevo dirti non è mai apparsaro no no ma infatti quello che sto dicendo è che comunque l'hanno portata su in tech team con Shozzi poi l'hanno splittata Shozzi la stanno pushando e lei è in catering era in catering almeno e adesso è stata addirittura licenziata quindi va spesso purtroppo va spesso a finire così quando decidono di che poi tra l'altro non è neanche avvenuto uno split on screen è proprio avvenuto fuori dallo schermo con il draft le hanno divise con Tegan Nox l'hanno spostata a Roe non sappiamo cosa farci e l'hanno licenziata mi spiace mi spiace molto perché comunque il talento lei il talento lei ce l'ha non so come sia la situazione a livello di permesso di lavoro perché comunque lei è gallese non credo che sia cittadina americana quindi potrebbe essere un problema diciamo in questo momento magari rimanere anche negli Stati Uniti come per esempio aveva detto Catalina mi sembra che ha detto che era stata licenziata e tra l'altro doveva anche lasciare gli Stati Uniti perché non aveva permesso di lavoro quindi doveva comunque andarsene momentaneamente penso che per lei bene o male sia la stessa cosa in questo momento a meno che non trovi non trovi velocemente diciamo un altro lavoro però comunque dovevano passare tre mesi per dire le stesse Iconics ci ha messo una vita per diciamo per trovare per trovare un altro lavoro perché hanno avuto problemi di permesso di lavoro anche loro con gli stranieri purtroppo succede una cosa di questo tipo e loro mi sa che sono australiane sono australiane esatto sono australiane sono australiane e ci hanno messo un po' da arrivare dal licenziamento da arrivare in impact ci hanno messo buon sei mesi ricorderei solo una cosa di MMA Glover Teixeira che ci ha messo praticamente otto anni per prendere il titolo per il permesso di soggiorno vero vero lui è diventato campione ha 43 anni 43 anni no anche di più sai mi sa 47 adesso lo cerco 47 magari no mi sembra meno comunque vabbè non è importante però il discorso che comunque per gli atleti stranieri che non sono cittadini cittadini americani è un problema effettivamente un discorso di questo tipo 42 comunque perché è del 79 42 sì sì lo sto guardando sì sì 42 poi l'altro se vogliamo sorprendente licenziamento ma nemmeno poi tanto contando che tipo due settimane fa gli avevano fatto fuori la moglie John Morrison che purtroppo è stato licenziato molti pensano che sarebbe stato licenziato tranquillamente due settimane fa non fosse stato in Inghilterra per il tutta VWI non è sbagliatissima francamente come affermazione non cambia molto cioè comunque appena trattato gli Stati Uniti però questo è un altro di quei nomi che a me personalmente ha lasciato diciamo scioccata perché adesso senza ritornare a me no francamente una volta una volta che gli licenzi la moglie bene o male the writings on the walls dice cioè comunque era un messaggio era un messaggio del destino diciamo mettiamola così se vogliamo vederla però senza tornare al discorso diciamo di due settimane fa però capisco appunto ridurre il roster che magari non vedi che sottoutilizzi però Morris si Morris è di Smith stavo ascoltando prima no Morris è di Impact è un altro è un subito stavo pensando agli Smith figurati ok va bene andiamo avanti Morrison è uno che comunque è visto cioè un buon midcarder nel senso l'avevi comunque impiegato fino a poco fa sai cosa ne parlavamo ieri tra di noi mi spiace da un lato che l'abbiano licenziato anche per un altro motivo perché comunque gli è andato tanta di quella merda da mandare over a livello di contenuti e lui l'ha fatto lui l'ha sempre fatto effettivamente mi spiace tutti come di un grandissimo professionista esatto quindi cioè non è neanche una cosa l'esempio l'esempio magna di quello che di quello che gli hanno sempre dato in mano merda l'ha sempre fatta funzionare alla grande è un altro però che è un altro che ha fatto un grandissimo video post licenziamento che è Drake Maverick Drake Maverick certo come vuoi chiamarlo sì sì ha fatto un bellissimo video diciamo che stavolta stavolta l'altra volta gli è andata bene stavolta mi sa che riassunzione mi sa che sarà un po' difficile no ma non credo che gli interessi neanche lui no no ma sì lo sa anche lui no no lo sa anche lui ha capito il discorso è che comunque può fare cose ma in WWE alla fine può fare al massimo quello che gli hanno fatto fare sì esatto è contento cioè lo dice anche nel video lui è contento della sua run in WWE però si rende conto che più di quello non le avrebbero mai fatto fare e allora vuole provare a fare altre cose lui credo sia lui credo sia a posto dal punto di vista permessi di lavoro perché è sposato con una cittadina americana quindi penso che non ci siano problemi da quel punto da quel punto questi matrimoni per avere la green card eh questi matrimoni combinati per la green card la stessa la stessa Renee Young che adesso Renee Paquetta anzi visto che non è più in WWE che adesso è cittadina americana anche anche lei quindi no scherziamo è una battuta però però un vantaggio non gli è stato matissimo col matrimonio però scusate scusami non ho capito tra tanti matrimoni per la green card gli poteva andare a patch vabbè buono per lei no dicevo è una battuta però per dire dry maverick ha già un vantaggio per esempio rispetto rispetto ad altri perché non ha il problema per quanto riguarda per quanto riguarda la green card o comunque la cittadinanza può già trovare la povera tranquillamente esatto Shane Thorne magari potrebbe non so se si è sposato Shane Thorne credo che si è fidanzato ma non non ha idea però io gli mi porto una mano sulla spalla mi dispiace figliolo ma è andata male anche prima cioè con la gimmick del datuomo torta in faccia non è che no ma infatti su quello non avrai obiezione da me però lui è un ottimo rester tag lui secondo me lui ci vedevano qualcosa quando a NXT sai quando se n'era andato via il suo tag team partner che lui l'avevano tenuto sì esatto qualcosina ci vedevano gli avevano fatto fare anche una minifida con Gargano comunque lo vedevano sì che erano aiuto non mi vedo il nome dell'altro era Nick Miller Nick Miller sì però non mi ricordo il nome che aveva prima delle indie perché lui prima era Shane Haste quando era nei TMDK però non mi ricordo l'altro come si chiamava Nichols era nei mati Mike Nichols Mike Nichols che era diventato un po' Nick Miller in WWE no allora lui è evidente che lo vedevano cioè almeno NXT lo vedevano con una buona good end sì poi è è finito nella retribution e poi l'impressione che mi dà è che comunque che l'han tenuto una vita a fare i i dark match non dopo con i dark match non sapevano che cacchio fargli fare dopo e appena un po' tutto l'han tagliato via il discorso è capire una cosa che non capisco di questa compagnia adesso è come sta ragionando in varie cose hai appena fatto il draft e stai di nuovo spolpando i roster ci vorrebbe uno psichiatra probabilmente secondo me sì perché a un certo punto siamo sull'orlo veramente della patologia perché cioè non si capisce prima erano troppe adesso sono pochi che altro vorrei capire alla fine il punto è sono in 80 ma c'è un problema sono divisi in due show forse un roster unico forse un roster unico alla fine non ci sarebbero problemi ve lo ricordo l'utilità del brand split con un roster così ridotto è molto limitata alla fine non è ridotto se vai a vedere il numero quantomeno perché ripeto hai un'ottantina di lottatori sotto contratto nel mio roster il problema è che sono divisi in due show sono 45 25 sono 40 show di cui togli in eventi infatti c'è un problema c'è un problema di utilizzo perché poi comunque ne hai 80 li dividi li dividi in due diciamo mettiamo 40 e 40 che se realtà non è così perché Smackdown ne ha di meno perché è un'ora in meno però il problema è che usi sempre i soliti 12-14 quindi e altri sono lì al catering che non fanno che non fanno niente ci fosse comunque un'alternanza praticamente nell'utilizzo dei lottatori la noteresti meno probabilmente questa carenza di lottatori invece c'hai sempre i soliti praticamente c'hai sempre sempre i soliti match sempre le solite rivalità sempre gli stessi personaggi e alla fine ti sembra che effettivamente il rosa sia risicato probabilmente non è così però vai la dipartita dei fire siamo costretti a fare un match con tutti quelli che erano in catering ingiustamente sì la battle royale di survival series di cui parleremo dopo la battle royale di survival series sapevi che la facevano a prescindere sì quello probabile cambia il numero ma sono quelli tutti gli altri per esempio a Smackdown si sono costretti a mettere tutti quelli che non stavano usando adesso perché via quello quello licenziato quello non c'è più quello dicevi tu c'era una statistica interessante tra l'altro che leggevo su Reddit ieri cioè se non licenziano nessun altro o se non chiamano nessuno praticamente su da NXT da qui alla Royal Rumble la Royal Rumble la Royal Rumble femminile per un terzo sarà composta di gente di NXT perché ne hanno 20 quindi 10 saranno per forza di NXT alla fin fine o chiamano qualcuno o sono costretti a metterne 10 di NXT e buonanotte da quel punto di vista perché mi sembra che con tutto il rispetto a parte Yoshirai a parte Raquel Gonzalez e forse qualcun altro a livello di NXT a livello femminile mi sembra bassino francamente con tutto il rispetto e non può essere altrimenti in questo momento non può essere altrimenti a parte il discorso del settore di sviluppo comunque hanno abbastanza con gli ultimi draft hanno portato su a parte io e Raquel e anche a Zoe Stark perché anche Zoe Stark e Dakota hanno portato su tutte quelle brave e a NXT ha lasciato praticamente la gente in settore di sviluppo a parte la Fu Priscilla Kelly che adesso Gigi Dolin che comunque lei è brava continuiamo a chiamare Priscilla Kelly vi prego si chiama Gigi Dolin la chiamiamo così Mandy Rose che comunque sì è migliorata però chiaro non è a livello delle campioni che abbiamo prima però già solo nella stessa stable Gacy Jane mi sembra molto indietro rispetto alle altre due mi sembra enormemente indietro si vede l'avevano imparato due settimane fa quando parlavano di NXT quando ho fatto il match era il 3 contro 3 sì che aveva fatto delle robe che poteva fare meglio mettiamola così esatto esattamente poi abbiamo vabbè Polar Shintorn è stato stato licenziato rimane rimane tuttora due misteri per quanto riguarda i licenziamenti e cioè uno Elias dov'è cioè perché Elias continua a scampare il licenziamento non che voglio non che voglio che venga licenziato però no ma infatti dov'è è un po' il JTG è un po' come JTG se vogliamo che ha scampato il licenziamento per due anni ripackage più che riprenda sì ripackage scusate ripackage quelle famose vignette sì che poi non hanno portato niente le hanno interrotte di botto e nessuno sa che fine abbiamo fatto praticamente queste cose e l'altro l'altro grande mistero che poi forse è un mistero fino ad un certo punto è il fatto che non venga mai toccato NXT UK se guardate non caccelo mai nessuno da NXT UK vero quindi quindi i casi sono due o veramente gli costa una minchia NXT UK che è molto probabile tra l'altro cioè che che i contratti di NXT siano comunque molto molto bassi alla fine non ci sia sto gran vantaggio per la WWE nel licenziare qualcuno o evidentemente NXT UK è talmente poco una priorità per la per la compagnia sotto ogni punto di vista che si dimenticano quasi che esista che può anche essere tra l'altro contando contando il fatto cioè ogni tanto vedi qualche spot durante durante NXT mi sembra martedì sera però già già durante Raw Smackdown col cazzo che vedi pubblicità di NXT UK le vedi giusto durante NXT che è il programma meno visto della settimana tra l'altro dei tre della WWE quindi evidentemente sta grande importanza per la compagnia evidentemente non ce l'ha o quantomeno non ce l'ha più perché comunque ricordiamoci sempre perché era nato NXT UK ai tempi perché sostanzialmente c'era World of Sport da parte di ITV in Inghilterra e quindi hanno fatto nascere il brand inglese però praticamente il brand inglese a parte due takeover e il torneo è stato lasciato abbastanza a suo destino e non è un brutto show però è lasciato abbastanza a suo destino cioè comunque niente di quello che viene lì è importante vai ci hanno anche un pochino NXT UK ci ha anche avuto sfiga anche quel discorso pandemia perché è vero che anche prima del discorso pandemia non avevano questa grande roba però c'è da dire che nei primi mesi del 2020 avevano iniziato a pusharlo hanno fatto il World's Collide dovevano esserci il secondo takeover il terzo takeover doveva esserci sì che poi è stato cancellato e poi è stato cancellato dopo diversi anni dovevano andare Balor dovevano fare Balor Walter era Dublino credo Dublino sì e quindi diciamo che da una parte assolutamente assolutamente non gliene frega un cazzo non gliene frega un cazzo diciamo che hanno avuto un po' sfiga come brand perché comunque nel momento in cui stavano iniziando a fargli fare un po' di cose per i fatti loro è arrivata una pandemia globale e gli ha tagliato le gambe vero vero è questo certo dei nomi che abbiamo manca anche un nome tra i licenziamenti non abbiamo detto quello di Jackson Ryker che alla fin fine è stato licenziato vabbè il suprematista bianco ce lo si è allevato non è che diciamo non è che ci dispiace non è che ci dispiace più tanto mi pare di capire che questa notizia è proprio dei nomi dei nomi citati in AEW per fare proprio il paragone diretto con la diciamo con la con la compagnia più immediata sotto la WWE io direi Tegan Nox a AEW e Morrison dipende Morrison purtroppo per lui ha il guaio dell'età perché comunque ha 42 anni non è giovanissimo però è anche vero che è in buona forma fa comunque ottimi match se hai bisogno della proverbiale good end puoi prenderla magari se vuoi rimpolpare un pochettino la divisione femminile puoi anche prendere Taya al suo fianco però è già più diciamo come posso dire è già più dubbiosa rispetto per esempio Tegan Nox e AEW Scott e Tegan Nox sono due nomi che personalmente prenderei al volo però vediamo cosa vediamo cosa fanno gli altri con tutto il rispetto Shane Turner lo vedo più andare a raggiungere lo vedo più andare a raggiungere John Vala va a Strong sì con Jonah e Mike Nichols esatto sì li vedo riproporre ricomporre praticamente TNDK esatto li vedo riproporre tranquillamente TNDK senza senza grossi senza grossi problemi è altro da da segnalare per quanto riguarda i licenziamenti di questa settimana in tutto questo ancora una volta in tutti i tagli Dov Ziegler sopra Dov Ziegler ormai mi sa che ma Dov Ziegler ormai Ziegler non penso che lo licenziarà cioè mai dire mai perché abbiamo visto comunque nomi licenziati anche abbastanza clamorosi fare capire tipo lo stesso Nia Jax per esempio non pensavamo io continuo a dire io continuo a dire che il più clamoroso di tutti rimane Braun Strowman come scusa io continuo a dire che il licenziamento più clamoroso degli ultimi dell'ultimo anno è Braun Strowman ma tornerà io francamente ti direi più ti direi più Nia Jax più che altro per la parentela cioè dicevano tutti questa è protetta da The Rock protetta qui protetta là alla fine è un'ancacciata quindi forse forse posso capire l'obiezione di Braun Strowman senza dubbio però ti direi ti direi più quella poi a livello a livello di talento che guardi e dici come cazzo hanno fatto lasciatelo scappare ti potrei dire Kifli sicuramente degli ultimi licenziamenti poi non però a livello di importanza quantomeno per quanto riguarda il ruolo che ha avuto nella compagnia l'altra notizia della settimana è una notizia abbastanza fresca perché è arrivata questa mattina stiamo registrando questa parte di trasmissione di sabato ed è diciamo sappiamo cosa cosa avrà la terza notte di Wrestle Kingdom e non sarà Japan vs Noah vabbè a me onestamente attira l'idea a me pure però non hanno ancora annunciato no perché nel modo in cui l'hai detto sembravi sarcastico francamente no no per niente in realtà mi stavo tenendo perché stavo aspettando che lo dicessi tu però sono proprio contenta di questa cosa per me è molto sticata invece ma guarda dipende come se la giocano alla fin nel senso sarà uno show speciale alla fin al posto di fare New Year's Dash fanno questo show dove fanno non dei dream match però comunque fanno dei match interbrand tra New Japan e Noah tra l'altro il fatto che le due compagnie vadano a collaborare è comunque una notizia tra l'altro notizia dal punto di vista della produzione se vogliamo contarla questo evento se vorrete vederlo non sarà compreso su JPW World non in diretta quanto meno perché l'evento sarà in scena l'8 gennaio sarà trasmesso in pay per view in tutto il mondo su abema.tv abema.tv è una web tv giapponese abbastanza conosciuta anche tra l'altro negli ambienti perché comunque fanno spesso degli show della DDT e anche della Sessanoa l'evento è già acquistabile tra l'altro in questo momento se volete eventualmente portarvi avanti non è propriamente a buon mercato perché costa 35 dollari però se siete interessati alla card lo potete trovare e volete vedere in diretta la trovate lì in giapponese e anche in lingua inglese lo streaming in lingua inglese sarà fatto direttamente su abema.tv su JPW World verrà poi caricata dopo una settimana la prima settimana sarà di esclusiva su abema.tv mentre invece poi verrà caricata su JPW World e credo anche sul resto di universe che è l'altro servizio streaming che ha i contenuti di DDT e NOAA al momento non hanno annunciato niente a livello di match basandoci sulla conferenza stampa che c'è stata questa mattina che è stata tra l'altro una conferenza stampa congiunta e mi ha detto c'erano già dei rumor che qualcosa stava accadendo perché qualche giorno fa le due compagnie avevano annunciato una conferenza stampa in concorrenza cioè avevano annunciato una conferenza stampa di Nujapen e una alla NOAA in contemporanea sullo stesso sito e diciamo gatta gatta cicovava praticamente perché comunque insomma sembrava abbastanza strano che andassero a scegliere che andassero a scegliere praticamente la stessa sede la stessa ora praticamente e lo stesso giorno quindi qualcosa evidentemente bolliva già in pentola dopo il tempo tra l'altro la Nujapen aveva detto che per il cinquantesimo anniversario avrebbero praticamente fatto degli eventi di questo tipo comunque avrebbero fatto più dream match alla fin fine per quanto riguarda per quanto riguarda le loro card del 2022 a cominciare poi dalla card dell'anniversario comunque poi andrà in scena nel mese di februario nella conferenza stamba tra l'altro hanno detto oggi che sono abbastanza convinti che il 2022 sarà l'anno in cui praticamente si riuscirà a superare il covid e quindi vogliono praticamente sfruttare hanno detto proprio the power of pro wrestling che è uno slogan che verrà utilizzato dalla Nujapen e credo anche dalla NOA proprio per rilanciarsi e quindi per dare praticamente questo anno il grosso praticamente il main event dovrebbe essere perché comunque già da un po' di tempo che ci stanno pensando dovrebbe essere Kazuchiko Kala contro Kaito Kiyomiya della NOA un altro match Marofuji eh Marofuji sarà impegnato in un altro match perché praticamente se aspetta fanno Tanashi Muta Tanashi Muta è una cosa di cui si è parlato effettivamente eh porca puttana perché che cosa c'è che schiva donna dai dai non si regge neanche in piedi Muto io non riesco a capire perché gli fanno ancora fare match perché dobbiamo considerare il discorso politico nel senso perché evidentemente perché devi tenere se fai un evento di questo tipo ovviamente devi dare qualcosa alla New Japan qualcosa alla NOA non è che può essere la New Japan che vince tutti i match o la NOA che può vincere tutti i match andando per esclusione Okada se sarà specialmente campione con Kiyomiya non perde questo è poco ma sicuro ehm l'altro match potrebbe essere Shingo Takagi contro Kazuyiko Nakajima e penso che Takagi vada a vincere ci vanno gli altri due praticamente uno dei match che stanno costruendo se ricordo bene o perlomeno di cui si sta parlando l'aveva detto mi sembra lui in diciamo in nella sui social praticamente stanno mi sembra si sta ha detto mi sembra Ospri che sta che sta parlando praticamente di affrontare Marofuji quindi sarà Ospri Marofuji praticamente il match che vedremo al Tokyo Dome e l'altro dovrebbe essere l'altro match che stanno 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 diciamo stanno diciamo di cui si sta parlando praticamente qualcosa con qualcosa con Tanashi che potrebbe essere benissimo contro Great Muta contro Mutuo quindi vediamo un secondo cosa succede vediamo cosa cosa ci danno come card di certo sarà che è importante tenere conto dei motivi politici cioè delle politiche dietro le quinte perché comunque ripeto è uno show combinato delle due compagnie bisogna anche vedere per esempio cioè se vuoi fai Tanashi Mutuo secondo me è perché Tanashi vuoi per desiderio personale vuoi anche per diciamo condizione magari posta da New Japan dice ok noi vi diamo vi diamo Tanashi però diciamo siamo disposti a farlo perdere con Mutuo è forse l'unico nome con cui eventualmente Tanashi siamo disposti a farlo perdere probabilmente o qualcosa del genere sarà un evento che chiuderà in parità praticamente a livello di match non può essere altrimenti a livello di risultati perché comunque bisogna tenere conto degli equilibri tanto una cosa importante parte del ricavaggio cioè è un evento che è anche per beneficenza perché comunque parte dell'incasso sarà da voluto la croce rossa giapponese quindi comunque c'è anche una buona causa dietro questo quindi alla fin fine il risultato per quanto riguarda Wrestle Kingdom è che confiniamo i verdetti per quanto riguarda i titoli e robe varie alle prime due serate cioè al 4 al 5 cioè i due show del Tokyo Dom e l'8 sarà praticamente questo pay per view perché sarà il pay per view in Giappone speciale dove metti di fronte una sorta di All Star Game alla fin fine cioè metti di fronte le due grandi compagnie giapponesi via vai tra l'altro praticamente uno è Wrestle Kingdom e l'altro è il Fugno di Ersdash anche se poi in realtà lo chiamano Wrestle Kingdom di noi ma non c'entra un cacchio è un altro show sì è un'altra cosa non sarà anche al Dom sarà la Yokoha Marina che è comunque un'arena molto grande per essere un palzetto dello sport chiaro vediamo cosa vediamo cosa ci fanno è sicuramente una mossa interessante da parte delle due compagnie speriamo che sia uno show divertente questo sarà l'8 gennaio mentre invece 4 e 5 abbiamo già detto abbiamo già i due main event tra l'altro dei due show li abbiamo detti sono il 4 gennaio Shingo Takagi contro Kazuchiko Kada per il titolo di WGP e poi il giorno dopo il vincitore di questo match affronterà Will Ospry per l'unificazione diciamo dei titoli del mondo perché ricordiamo che Will Ospry ha questa versione dei titoli del mondo che lui si è fatto fare perché lui non l'aveva persa gli è stata praticamente portata via in seguito all'infortunio e quindi sta girando per gli Stati Uniti e dove si esibisce in Inghilterra anche con questa cintura e poi tornerà in Giappone per Wrestle Kingdom edizione 2022 e questo è quanto credo per le notizie della settimana termi termi qualunque cosa stiate facendo che sento dei rumori di trasloco intanto in sottofondo dicevo questo è quanto per quanto riguarda la parte delle notizie adesso io e Mattia commentiamo la puntata di NXT di questa di questa settimana con Gianluca e con Alessia ci sentiamo al termine della parte di di NXT per parlare di quello che è successo questa settimana in AEW con AEW Dynamite e AEW Rampage e allora eccoci qua con Mattia di noi per parlare della puntata di NXT 2.0 di questa settimana non grandiosa francamente questa puntata questa settimana hanno un pochino mandato avanti alcune storyline hanno fatto alcune scelte di booking che non ho capito sì però da una parte chi se ne frega è gente che mi sta sulle balle se posso vederli uccisi nella peggio maniera da ciampa mi va bene ho capito va bene hai capito anche di chi sto parlando sì sì eh ma quello mi sa che sarà una parte importante dello show poi tra nemmeno troppo tempo quindi dici Grayson Waller no non tanto Grayson Waller pensavo ti riferissi più a Neandertal no 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 a Grayson Waller io parlavo più che Neandertal sì Neandertal allora ti dico di Neandertal hanno fatto una cosa che mi è piaciuta sì nel senso che hanno hanno menzionato hanno menzionato che lui era hanno menzionato la cosa di SmackDown che lui era il bodyguard sì esatto esatto il bodyguard di che di solito non fanno non facevano prima sì è vero a parte quando era successo con Carrion Cross per pigliarlo per il culo sì in realtà più che per per riconoscergli che era andato a Raw sì quindi sotto quell'aspetto bene perché comunque vuol dire che almeno c'è iniziano un attimo cioè anzi forse iniziano a riconoscere i passaggi i passaggi così li riconoscono quindi comunque c'è un pochino di più di continuità che era un po' quello che ci che ci auguravamo da questa nuova versione di NXT vero però per il resto no no io parlavo di Grayson Waller del suo passaggio a heel sì fatto da Lash Legend peraltro che sede tra l'altro per un turn sì che non ho capito perché perché fino a settimana scorsa era tipo super babyface adesso incredibile adesso improvvisamente diventa quello e lui infatti con LA Knight tecnicamente sono due heel cioè hanno deciso di girare LA Knight ma boh ok o hanno deciso di girare oppure quello per lui era un promo da babyface che non ha il minimo senso perché è palesemente un promo da heel no che poi sì che poi a parte il fatto che bisogna capire che cacchio è sto show di Lash Legend cioè nel senso che obiettivo ha cioè questa la vediamo sul ring poi in futuro o ha intenzione di fare praticamente diciamo l'attrope vita naturale durante tra l'altro lei pare sia un atleta della madonna lei è un un ex WNBA credo qualcosa o qualcosa di simile quindi comunque lei ha una ha una gran base però evidentemente la stiamo vedendo in questo modo boh non vediamo cosa vediamo cosa succede da quel punto da quel punto di vista per il momento le fanno fare questo non sono convinto al 100% che stia funzionando però però in realtà sono anche altre le cose che mi lasciano un po' perplesso però lì vabbè lì questione probabilmente anche anche di gusti tornando tornando a noi tornando alla puntata ripeto è stata una grandissima puntata è stata una puntata allora se vi piace il gioco d'azzardo probabilmente vi è piaciuta vi è piaciuta la puntata non è stato un brutto segmento però effettivamente l'han tirata un po' per le lunghe ho verificato adesso l'intero segmento è durato 10 minuti quindi comunque è andato lunghino come segmento tutto sommato più che altro all'inizio quando lo stavo guardando dicevo ok Grimes ha perduto all'inizio pensavo che fosse la felita roba gli flopano le prime tre carte Grimes perde Grimes perde perché è un pirla poi gli flop l'altro l'altro è convinto di aver vinto flopano le altre due Grimes fa si fa il recuperone esatto come capo esatto perché fa tipo scala esatto va detta una cosa va detta una cosa ed è una cosa che non so se tu hai giocato mai a poker o comunque se hai mai visto i programmi di poker in televisione in poker in televisione a meno che non ti piaccia il gioco effettivamente un po' noioso va detto questo guarda i tornei in particolare si se ti piace allora se ti piace il tipo di gioco ti diverti anche perché comunque diciamo il grande successo del poker è stato dovuto anche al fatto negli ultimi dieci anni praticamente al fatto che per la prima volta potevi vedere le carte quindi comunque potevi immedesimarti in quello che sta succedendo però effettivamente allo spettatore diciamo abbastanza esterno dopo un po' effettivamente il poker infatti va detto il boom del poker è cavato tantissimo adesso vabbè qua in Italia ci sono state anche altre cose che hanno sicuramente falcidiato il boom del poker il fatto che comunque per molto tempo il poker live è stato stracizzato quindi diciamo che ci sono altre problemi però se guardi a me piaceva a me piaceva guardare il poker quando lo facevano su Skype anche a me anche a me però se guardi se guardi in televisione effettivamente il poker è praticamente scomparso dalle emittenti di televisione c'era vabbè a parte il canale che è durato due anni il poker ritaglia 24 però effettivamente rispetto al boom dove a qualunque ora della seconda serata giravi sulla televisione e trovavi dei tornei di poker da Italia 1 a Skype adesso di poker non ce ne sono più non ce ne sono più adesso di poker non si parla praticamente più da quel punto di vista quindi evidentemente il boom è finito ma è finito un po' ovunque il boom del poker a livello anche di programmi televisivi evidentemente era una moda che non è durata perché questo ci sono diversi motivi però effettivamente se uno non piace il gioco praticamente effettivamente guardare una partita di poker può risultare abbastanza noioso un segmento come l'hanno fatto l'altra sera che è non voglio dire una parodia però comunque hanno preso quell'impostazione lì alla fin fine per quanto per quanto mi ha fatto molto ridere da persona che guardava i tornei mi ha fatto molto ridere il fatto che facevano vedere le carte e si vedeva benissimo che non c'era telecamera nel tavolino quindi l'hanno aggiunta in post l'avevano registrata prima quella parte con le carte di Grimes o l'avevano registrata prima oppure erano in diretta però sapevano esattamente che carte gli davano avevano diciamo avevano scritto prima il segmento dal punto di vista delle carte anche perché comunque come fai a preparare un segmento del genere puoi farlo solo se hai una persona che comunque è in grado di dare le carte se il mazzo è truccato praticamente diciamo le cose come stanno però è fattibilissima come cosa basta un pochettino di prestidigitazione a fare un segmento di questo tipo comunque si l'hanno scritto prima che doveva avere un certo tipo di coerenza dal punto di vista delle mani e della grafica ed effettivamente i calcoli erano giusti cioè comunque da quel punto di vista effettivamente è stato scritto bene il segmento cioè comunque da gente che gioca sostanzialmente però il discorso che volevo fare effettivamente ripeto se a te non piace il poker o comunque se non ti gano il tipo di mondo una partita di poker in televisione può risultare effettivamente abbastanza noiosa e in quel segmento effettivamente l'hanno tirata un po' per le lunghe alla fin fine permettendo che giocatori che parlano in questo modo al tavolo da poker ce ne sono veramente pochi ci sono ci sono ci sono ci sono ma cioè Phil Helmut che è uno dei più grandi bastardi in senso buono nei tavoli da poker non parla a questo livello parla ma non a questo livello anche perché di base se parli così tanto a un tavolo da poker ti menano in 30 esattamente ti portano di mazzate ma vabbè lì è una licenza poetica se vogliamo che si è concesso certo vabbè ma sai cosa ma lì ci stava più che altro mi sto chiedendo chiedermi una cosa su Ducatson ma Ducatson conta le carte secondo te guarda che contare le carte è al deckjack non è al ah è vero anche nel poker ah no è vero nel poker non puoi contare le carte nel poker non puoi contare non puoi contare le carte no 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 mi stavo confondendo mi stavo confondendo no era la battuta c'era la battuta di smetto quando voglio sul contare le carte a poker che c'era l'economista che diceva che lui era in grado di contare le carte a poker e tutti dicevano non puoi contare le carte a poker esatto esattamente esatto comunque alla fin fine il discorso per quanto riguarda la partita di poker è stato un modo praticamente per alla fine togliere di mezzo i capelli o meglio non tutti parte dei capelli e della barba probabilmente anche di Cameron Grimes era una cosa che avevano già in mente evidentemente da qualche settimana quando abbiamo fatto quel segmento nel backstage sul fatto che lui avesse i peli sul petto e cose del genere quindi una sorta di magari come posso dire di un po' di ribrand se vogliamo perché Cameron Grimes per questo fatto che comunque allora a me piace a me piace sempre lui però c'è da dire che allora mi ricordo un po' di anni fa quando c'erano le nostre amiche B e Lise che facevano a gommiti altri e abbiamo fatto tipo la lista una lista scema di come valutare un match tra cui c'era il troll il troll come aspetto fisico del Rester lui effettivamente diciamo come esempio loro non mi ricordo che tiravano fuori come esempio io gli schissi e ho detto ma che cazzo state dicendo il troll è Cameron Grimes ed effettivamente è vero il griglione sembra un troll effettivamente si c'ha anche il cappello diciamo un troll delle caverne dei fantasy è un troll è un leprecon al cappello tipo al cappello diciamo da folletto irlandese un pochettino e quindi diciamo che se lo vuoi brandizzare in una maniera un po' più wweesca posso capire il fatto che vogliano un attimo renderlo più presentabile che poi possiamo parlare di cosa è presentabile e cosa no quello è un altro discorso però se intendono fare quel lavoro lì con lui allora ha senso che gli facciano tagliare i capelli e barba vediamo a cosa porta perché anche la gimmick del riccone comunque ha diciamo un limite o comunque più di tanto non puoi espanderla quindi qualcosina probabilmente qualche cambiamento è anche necessario tutto più che rimane ancora una delle gimmick più divertenti che c'è quello sì il discorso è come ne esci nel senso cosa fai o lo fai andare in rovina cioè fai la storyline che era che era quello che non che vorrei mettere a piano originale però era quello che diceva ok sì lui è adesso diventato ricchissimo però arriverà il momento in cui perderà tutto ma noi pensiamo che rimanesse Hill tra l'altro esatto invece hanno girato babyface giustamente a fuori di popolo perché comunque è andato over al pubblico piace quindi era giusto dare al pubblico quello che voleva Cameron Grimes chi invece non si capisce da che parte stia a livello di allineamento è il buon Tony Di Angelo perché una volta sembra babyface una volta dopo Hill è una gestione un po' un po' bizzarra la parte forget about it e io ti rispondo forget about it è vero anche questo match molto corto tra l'altro quello con Dexter durato veramente pochissimo 3-4 minuti non durato nulla e vittoria sporca tra l'altro ho una domanda secondo te splittano già la pirrotta e Indy? non lo so può essere può essere benissimo è vero che questa settimana hanno fatto uscire Robert Stone quindi potrebbe entrare a far parte tra l'altro lei si ha detto a Indy vai pure con tuo marito ma non mi sembrava così convinta effettivamente l'espressione facciale non era convinta al 100% vediamo non era proprio del cioè sembrava che tipo lei gliel'avesse detto con come si dice con simpatico per farle farei dire ma no esatto ma no ma che stai dicendo psicologia inversa psicologia inversa cioè comunque sta bene non ha bisogno di me c'è il Johnny posso posso venire posso andarvene esatto posso essere comunque al tuo fianco nel match effettivamente esatto puoi fare così un po' quell'impressione però non lo so sarebbe è comunque prestino perché comunque le ha messi insieme neanche un mese fa già splittarle mi sembra un po' sì esatto veloce sembra un po' repentina come cosa effettivamente però vediamo anche lì dove viene portata praticamente questa situazione alla fine del match diciamo che abbiamo abbiamo dirottato Lumis cioè dirottato non in realtà perché comunque già stavamo già andando avanti in quella direzione da qualche settimana c'è stato l'attacco praticamente da parte di 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 e di di Carmelo Ace ai danni di Dexter Lumis che ha avuto che ha avuto conseguenze sulla mano in particolare sulla mano destra la parte di Dexter Lumis vediamo dove come prosegue questa cosa per il momento per il momento si va anzi si va a niente perché comunque già stato annunciato ci sarà questo per il profretto per il titolo sì quello secondo me sarà molto bello la settimana prossima sì sembra il classico match dove tra i due litiganti il terzo godrà e il terzo sarà Carmelo Ace sarà una roba per mettere per mettere Dan e Gargano a fregarsi praticamente di schiena e poi alla fine Carmelo Ace conserva la cintura bisogna vedere chi dei tre viene schienato naturalmente però chi dei due anzi viene schienato se Gargano o se invece sarà Piddanna però lo scopriremo bisognerà anche capire cosa fa Gargano perché pare che anche Gargano sia in scadenza Gargano scade stanno a Fightful il 3 dicembre esatto quindi c'è Takeover War Games il 5 magari visto che scade il 3 ma sì facciamo il weekend e poi vediamo cosa succede oppure magari non appare direttamente a Takeover War Games come cavolo si chiama ha finito con la compagnia può anche se ovviamente decide di non rinnovare con la WWE naturalmente perché non è non è detto naturalmente fino alla fine non si può non si può mai sapere da quel punto da quel punto di vista tornando tornando invece alla puntata di questa settimana di NXT di NXT 2.0 il Grisoyan Veterans la domanda è cosa stanno facendo con loro non lo so non ho capito è una stanno praticamente diventando dei truffatori per motivi inspiegabili cercando di truffare la nonna di la nonna di uno dei due di Gibson di Gibson credo di Gibson con i titoli di coppia delle donne tra l'altro ecco ecco questa cosa qua mi sono chiesto una cosa quando ho visto quel segmento che alla fine è anche carino è stato anche divertente però quando gli ho visto i titoli di coppia femminile che ha chiamato la nonna e gli ha detto guarda siamo diventati campioni di coppia perché non può vederci e lui ha detto perché tanto non può vederci in diretta quindi non può saperlo esatto allora a parte che ha chiamato la nonna alle le tre del mattino più o meno le due e tre del mattino ma vabbè ma vabbè sospendiamo l'incredibilità per quello e va detto almeno bisogna vedere se è in Inghilterra o se è in America la nonna di Gibson contanto che è inglese teoricamente dovrebbe essere in Inghilterra va anche detto va anche detto che NXT va in onda in diretta in Inghilterra su BT Sport quindi poteva probabilmente vederlo in televisione se avesse avuto l'abbonamento a BT Sport comunque vabbè andiamo avanti però no la domanda che ti pongo io è questa ma la nonna nel momento magari poi la guarda anche la puntata non lo nota che lui ha la cintura femminile allora valente una cosa se tu prendi il titolo di coppie maschile e il titolo di coppie femminile effettivamente non sono molto diversi dal punto di vista sono molto simili però uno è bianco e l'altro è nero esatto esattamente però a livello visivo il piatto è identico praticamente il piatto davanti vai però adesso ti faccio una domanda è tutta stupida so già che bisogna vedere se la nonna guarda lo show si tiene aggiornata basandosi sulle balle che gli racconta il nipote allora se la nonna guarda lo show lui l'ha chiamata dicendo le nonna si sono diventati campioni di coppia di NXT e poi e poi cioè se non guarda lo show lui ha detto non si sono diventati campioni di coppia di NXT ma allora perché gli servono le cinture le cinture potrebbe dirgli la balla senza che lei la guardasse se la nonna guarda le puntate di NXT lui praticamente lo scopre che la stanno fregando evidentemente non le guarda ho capito ma se non le guarda perché loro hanno dovuto fare la scenetta con i titoli di coppia femminili se tanto la nonna non le guarda beh se la nonna gli chiedeva dove sono le cinture invece doveva inventarsi una balla gli mandavano le foto esatto gli mandavano le foto quindi qualcosa si sono inventati non lo so non troviamo una logica in un segmento che non ne ha praticamente alla fine a parte quello ma poi settimana scorsa perché hanno rubato gli hamburger cioè perché hanno dovuto mendicare per ottenere gli hamburger perché stanno diventando poveri o cosa diavolo erano secondo me stanno diventando poveri la storyline è quella non so per quale motivo che poi vabbè se questa non lo è ovviamente però se la storyline fosse stiamo diventando poveri a Davide B non è che ci fa una gran figura che vuol dire che non paga i propri atleti o comunque li paga molto molto poco e non credo che sia pure loro stanno sperperando tutti i soldi che li pagano anche anche ma in cosa però non abbiamo visto in cosa le hanno sperperate i Jack at Time i mignotte che te devo dire vabbè fare loro dicevo i Jack at Time ovvero Ikemenjiro e Kushida hanno battuto i Diamond Mine rappresentati dai Creed Brothers praticamente e da Roderick Strong con l'aiuto di Odyssey Jones che ha ottenuto praticamente lo schienamento vincente buon match discreto questo è forse una delle cose migliori della puntata effettivamente dal punto di vista lottato tra l'altro parlando dei Diamond Mine Malcolm Beavens ha annunciato che ci sarà un tryout la settimana prossima e ha dato il biglietto da visita a Joe Gassi per motivi strani hanno anche detto che il tryout costa 837 dollari e 50 centesimi non so per quale motivo hanno dovuto essere così precisi da quel punto di vista qualcosa mi dice che a questo tryout potremmo vedere coso Arland Arland esatto finalmente non vedo l'ora vediamo cosa combino è un segmento per la settimana prossima non so se sarà un segmento registrato se sarà un segmento live però qualcosa mi dice che mi sa che vedremo vedremo praticamente Arland impegnato con la Diamond Mine la prossima la prossima settimana aggiungo finalmente perché Arland io lo aspetto continuo a dirlo è una delle cose che aspetto di più da questo NXT 2.0 più che altro perché lui lo aspetto da due anni voglio vedere com'è questo fantomatico Brock Lesnar 2.0 vediamo vediamo un po' poi abbiamo avuto l'ennesima vignetta gli MSK che non si vedono da qualche settimana e che sono impegnati in questo viaggio come posso dire viaggio spirituale viaggio spirituale alla ricerca di questo guru praticamente di quello che li ha resi gli MSK esatto esattamente ho il terrore di scoprire chi sarà beh a questo giro avevamo paura che gli beccassero la droga sì esatto le provviste diciamo mettiamo la scritta era supplies proprio tipo provvisto qualcosa qualcosa del genere i manchies per citare per utilizzare terminologia tecnica mettiamola così poi abbiamo avuto Andre Chase che ha perso per l'ennesima volta questa volta con Zion Queen Andre Chase è il diciamo non simpatico perché è un heal però è il jobber praticamente in questo momento del brand non credo abbia vinto un match fino a questo momento Andre Chase forse ha vinto forse ha vinto un match ma quando era nel breakout tournament può essere sì però da quando ha la gimmick diciamo della Chase University no forse ha battuto una volta sai che forse ha battuto una volta forse per rapina ha battuto Odyssey Jones aspetta eh vado controlla eh vado a vedere mi sembra che per rapina ha battuto Odyssey Jones perché qualcuno è arrivato a rompere il cazzo vado a vedere forse è lui che ha rotto no forse era lui che aveva rotto il cazzo a Odyssey Jones contro Allora a NXT lui non ha ancora vinto un match cioè lui ha vinto nel break nel diciamo nel match di qualificazione al breakout tournament che però avevano fatto a 2 o 5 live aveva battuto tal Guru Raj chiunque chiunque esso sia però a NXT lui non ha fino a questo momento vinto un match ha vinto un match nella puntata del nella puntata di venerdì scorso di 2 o 5 live contro Malik Blade allora ricordavo male io il suo record è uno tipo uno dieci da quanto cioè ha vinto allora ricordavo male io è lui che ha fatto perdere Odyssey Jones contro coso contro i Lay Knight poi abbiamo avuto vabbè cosa abbiamo avuto aspetta un secondo ah vabbè poi dopo il match Zion Queen è stato praticamente è stato praticamente attaccato dai da Santos Escobar e dai Legato del Fantasma che è tornato con Electra Lopez che ha detto nessuno dice di no al diciamo il Legato del Fantasma non mi ricordo il contesto più che al Legato del Fantasma a lei sì esatto non ricordo il contesto non mi ricordo se aveva è perché settimana scorsa lei aveva proposto di entrare nei Legato del Fantasma e lui aveva risposto ha ragione mi ero completamente dimenticato poi vabbè c'è stato il segmento di Cameron Grimes e Duke Hudson per questo poker showdown che abbiamo visto mi ha fatto ridere che come si chiama che Hudson sia andato sotto il ring a prendere praticamente la cassetta di attrezza c'era di tutto ha preso l'oggetto praticamente più innocuo che erano le forbici c'era tipo tenaglie martelli erano di questo tipo no lui ha preso la forbice è una scelta un po' particolare anche se poi alla fine ha avuto senso con il diciamo con il taglio di capelli e il taglio di barba da parte ai danni praticamente di Grimes Kylo Rally e Von Wagner contro Brooks Jensen e George Briggs dico una cosa su questo match vai no 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 aspetta non è neanche cattiva stranamente allora la gente dopo mesi che Kylo entrava nel silenzio stasettimana l'hanno l'antifato si la cosa che ho pensato è o si sta rendendo conto che una delle poche volte che una delle ultime volte che lo vedono lì e allora hanno detto vabbè dai tifiamolo si oppure il vagone lo sta facendo tornare a essere over Neanderthal lo sta mandando over esatto di riflesso cioè lui è talmente diciamo una chiavica che vabbè se dobbiamo proprio tifare noi lo tifiamo l'altro almeno lo facciamo media ridendo e scherzando Kylo era comunque parecchio che entrava nel silenzio generale stasettimana comunque il pubblico lo tifava mi fa piacere però boh non lo so non ho capito come mai adesso è tornato a essere è tornato uno che la gente tifa perché molte altre volte lui era i suoi match erano praticamente nel silenzio non te lo so dire effettivamente non so darti una spiegazione praticamente su questa faccenda poi vabbè c'è stato Lash in Out con Lash Legend Persia Pirota ha vinto un handicap match contro Gabby Stevens e Jenna Jenna Levi in poco tempo alla fin fine sono praticamente uno squashone con Robert Stone che è praticamente apparso a fare un pochettino di scouting una cosa di cui non sono un fan è la nuova gimmick di Dakota Kai non mi piace l'overacting praticamente che le fanno fare mi sembra molto cartunesco come cosa ok che l'idea del personaggio è lei che ha perso la testa però mi sembra un po' tutto troppo esagerato un po' troppo esagerato sì non so se anche tu hai questa impressione o non ti spiace ma non mi spiace non mi spiace lei però sì è un pochino fa un pochino tanto mettiamola in quella maniera fa un po' un po' troppo cioè è vero che overacta tantissimo sì quindi lì non ti posso dare torto vediamo vediamo che cosa ci fanno più che altro non riesco a capire una cosa questa l'hai appena rimandata in l'hai appena riportata e non le fai vincere il primo match cioè il primo match grosso veramente grosso che ha tra l'altro che doveva vincere secondo me perché se no veramente la ammazzi lo fai finire in quanta ti squalifica e poi la metti nel war games dove non penso vada a vincere perché non penso che lei cioè l'anno scorso che le heal vincessero aveva ancora il suo senso quest'anno no quest'anno non possono vincere le heal perché se vincono le heal le sfidanti sono finite valendo che ne manca una nel team nel team babyface nel team babyface ne manca una e non so chi mettere in questo momento in questo momento non ti so dire perché non mi viene in mente nessuno effettivamente che può andare nel team babyface quindi vediamo vediamo quale sarà la soluzione da qui al 5 dicembre e poi abbiamo avuto il promo perché Zoe Stark non può tornare Zoe Stark è fuori per un annetto praticamente sì esatto o metti Indy ma Indy lì che cazzo ci fa oppure boh non lo so non saprei niente anche Candice è fuori per una vita sì beh Candice è anche incinta quindi sì esatto è infatti per quello che ti dico ne ha per un po' effettivamente se vogliamo utilizzare questo francese o torna giù qualcuna dal main roster però cioè hai appena draftato la gente nel main roster quindi boh vediamo vediamo chi mettono in mezzo alla fin fine in questa situazione poi abbiamo avuto il promo di Ciampa che è stato raggiunto per l'endesima volta da Brown Breaker Ciampa lo ha ha citato il famoso promo della Steiner Meff a un certo punto e vediamo come continua questa questa situazione secondo me vince a questo punto cioè vedendo il promo di questa settimana Breaker vince il titolo a War Games se fanno un match per il titolo sì se sono parte del War cioè dipende quanto vogliono tirarla avanti nel senso possono essere benissimo loro due nel team babyface nei War Games non so contro chi però e magari costarsi la vittoria o comunque arrivare a un momento in cui praticamente ricominciano a menarsi durante il match e poi da lì poi si arriva al match titolato al match titolato dipende se vogliono fare già il match titolato a diciamo a War Games perché comunque mancano cos'è quante puntate abbiamo due prima dell'evento quindi non c'è molto tempo effettivamente per costruire per costruire una faida o per decretare eventualmente un number one contender tra l'altro dov'è Regal che mi urla War Games è Regal è completamente completamente fuori mi sa perché effettivamente siamo già a due mesi di show e lui praticamente non si è mai visto a livello i match decisi praticamente cioè lui a un screen non si è mai visto cioè si è visto si è visto forse al matrimonio al matrimonio di al matrimonio la prima puntata al matrimonio di come si chiama di indie art e credo forse ha inizio puntata per dire qualcosa ma a parte quello effettivamente a livello decisionale lui è fuori completamente cioè non è non è non dicono neanche più uno screen che lui è general manager mi sembra di NXT non so non so chi decide allora sai che non hanno mai allora la situazione non è mai stata chiarita chiarita mettiamo dei never addressed sì non hanno mai detto apertamente cosa cioè vengono decisi i match e non dicono la chi praticamente il discorso è quello esatto non si sa se se sia ancora William Regal il general manager se ci sia un general manager o se ci siano praticamente altri diciamo altre entità a dirigere a dirigere praticamente le operazioni in quel di NXT versione 2.0 quindi non so darti non so darti una spiegazione da quel punto di vista quindi vedremo cosa vedremo cosa decideranno se decideranno o se continueranno con questa con questa fase abbastanza ambigua vai no no vediamo no 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 esatto non si può quello non si può sapere e poi cosa ci resta dopo c'era già a gira Kyle Gonzalez contro Dakota che è finito con un rissone praticamente con l'inserimento delle Toxic Attraction e il ritorno prima di Zoe Stark anche se con le stampelle e poi di Yoshirai con l'aiuto non so quanto non so quanto gradito di Korra Jade che ricordiamo c'è c'è una situazione un pochettino incerta tra Korra Jade e Erichel Gonzalez ha poi lanciato più che è incerta perché entrambe vogliono un pezzo di Dakota esattamente quindi lì il discorso è chi se la prende per prima quindi praticamente ed è arrivata poi la sfida da parte di Yoshirai per il primo War Games per quello femminile praticamente per per lo speciale del prossimo 5 dicembre al momento abbiamo quindi Yoshirai Korra Jade e Erichel Gonzalez a questo punto contro le Toxic Attraction al gran completo da Kotakai quindi in questo momento è un 3 contro 4 questo tipo di match vedremo chi sarà aggiunto praticamente al team al team Babyface da qui praticamente a takeover War Games in programma nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 dicembre per settimana prossima a parte forse il segmento di il segmento del diciamo del non mi una parola del del tryout delle della Diamond Mine e anche il triple threat per il titolo per il titolo nordamericano hanno annunciato qualcos'altro non mi sembra mi sembra di no mi sembra che non abbia annunciato nient'altro vado un attimo a controllare sul sito ufficiale mi sembra di no e mi sembra che la cosa più grossa è appunto il triple threat che dovrebbe essere ah no c'è Tommaso Ciampa contro Creson Waller anche giusto ah è vero Creson Waller che come abbiamo detto prima ha turnato il a cazzo di cane facendo questo promo dicendo che gli indie wrestler fanno cagare lui ha fatto un reality show è stato preso e quindi gli altri sono tutti delle merde e lui no vediamo un po' che è un promo da Hill è un promo stranissimo per uno che fino a settimana scorsa era un babyface cazzone vediamo un po' vediamo un pochettino cosa accadrà la prossima settimana anche avercela con Elaine Knight che Elaine Knight dice io ci ho passato anni ho passato anni per essere qui ci sono voluti anni per essere qui ok però te la vai a prendere anche con tutti gli altri che tipo Ciampa tipo Riley tipo Gargane e così via ed è un promo da Hill quello quello è un promo che solitamente fanno gli Hill dire cioè per dire è il promo di The Miz contro Daniel Bryan è il promo di The Miz contro un sacco di altra gente delle io ho fatto un reality show io vado bene per la WWE e voi che avete fatto che combattevate davanti a 20 persone siete delle merde quindi è un promo molto da Hill quello e non ho capito perché gliel'hanno fatto fare contando che fino a settimana scorsa era Babyface lui niente altro da aggiungere per questa puntata di NXT 2.0 quindi ricordiamo che per vedere NXT 2.0 l'appuntamento è nella mattinata di mercoledì a meno per quanto riguarda i modi legali per vederlo nel nostro paese nella mattinata di mercoledì su Discovery Plus e nella notte tra mercoledì e giovedì invece sul WWE Network ringrazio Mattia di noi che mi ha fatto compagnia fino a questo momento e che ritroveremo più avanti nella puntata di Brassi Caffè con la parte dedicata a Survivor Series adesso invece ci spostiamo a parlare di quello che è successo questa settimana in casa AEW con le puntate di Dynamite e di Rampage e allora dopo la parte dedicata a NXT passiamo alla AEW con quello che è successo questa settimana con Dynamite e Rampage con Alessia Di Donato e Gianluca Rouge che ritornano in collegamento per quello che è successo dopo praticamente Full Gear pay per view dello scorso weekend chiedo a Gianluca opinione base non tanto sul pay per view perché ce l'ha data già nella scorsa puntata ma su come la AEW ha proseguito praticamente nel post Full Gear con le due puntate di Dynamite Rampage un po' meno se vogliamo ma più con Dynamite no no Rampage un po' di più perché l'ha data della settimana e per quanto riguarda la cosa seria partiamo da cose serie Dynamite hanno trovato la soluzione migliore non trovano avversari di transizione danno subito Danielson con la postilla ti uccido un membro del Dark Order uno alla volta quindi per almeno 7-8 settimane Daniel Bryan contro tutto a Dark Order no magari un po' sai cosa magari un po' un po' prima mi spiego meglio ne paravo ieri con Alessia durante l'Aidab Italia c'è una piacevole coincidenza e cioè che nelle prossime settimane i taping di Daniel e di Rampage saranno in città di membri del Dark Order però la cosa guarda caso si ferma il 15 il 15 dicembre e il 15 dicembre hanno annunciato Winter is Coming quindi potrebbe essere benissimo che il match tra Bryan Danielson e e Amy Page si svolga poi il 15 praticamente il 15 dicembre ma non si è davanti chi anche perché poi Winter is Coming è la puntata un po' delle dei grandi match no Kenny Omega e John Moxie con il titolo in palio si ha fatto il cambio di titolo esatto quindi ci sta ci sta che effettivamente sia la prima difesa del nostro anxious millennial cowboy non più molto anxious come abbiamo detto ieri io sono contenta così va bene quindi potrebbe essere cinque anni di attese di spazio ma che cinque anni due 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 nei W magari lui magari ma io dai tempi di quando ho preso pure il crado e che questo è forte tu ti si vabbè ma non parla microfono fa poco bravino beh ai tempi effettivamente diciamo non sembrava dare questo questo grande diciamo questa grande questa grande impressione però poi no però poi è cresciuto esponenzialmente questo bisogna bisogna come da Ringo Bono diceva è un WWE product cioè vengono qua bello alto parla lotta perfetto e poi beh sì un po' la WWE l'ho cercato guarda caso se la WWE comunque se non trovano alti li trovano così preferiscono lottatori ora so che magari già Luca farà tipo il moretti della situazione tipo no il secondo album è troppo commerciale perché lo capisco un po' dice io lo stavo aspettando da un sacco di anni no però possiamo un po' affermare adesso portando l'acqua al mulino dell'AW che l'Hangman oggi è l'Hangman con questa cassa di risonanza anche perché di base l'AW tranne alcune sfumature ma adesso proprio andiamo sul preciso però dico in generale ha fatto un ottimo lavoro di costruzione di questo personaggio senza dubbio senza dubbio ed è proprio il vero homegrown hero cioè nel senso quello che dal giorno 1 hai diciamo indicato come tuo rappresentante come faccia proprio come tuo culto cioè chi pensa all'AW al di là anche a prescindere dalla cintura di campione pensa a gente come dicevamo anche ieri sera Eric come appunto Langman come Dardy Allen come MJF nonostante loro abbiano fatto altro non è che non l'hanno fatto nella vita però proprio su Langman è preciso azzeccatissimo il booking secondo me il booking è come l'hai costruito cioè le storie che gli hai dato no ma infatti ne parlavamo ne parlavamo ieri sera quando sono intervenuto nel podcast che in questo momento l'AW si trova senza John Moxley e si troverà senza Kenny Omega per un po' di tempo perché deve farsi diciamo deve mettere a posto la lista della spesa praticamente degli acciacchi degli acciacchi e degli infortuni che ha però al contrario magari di una magari di una WWE dove eventualmente assenze importanti sono molto più problematiche noi guardiamo il roster e l'AW e tutto sommato ci rendiamo abbastanza conto che l'AW non andrà particolarmente a soffrire l'assenza di questi due cioè comunque l'AW è messa bene dal punto di vista del roster ovviamente hanno preso anche altre gente nel frattempo però comunque è una situazione Gianluca di roster da potersi anche tranquillamente permettere un'assenza di diverso tempo per quanto riguarda Kenny Omega e per quanto riguarda John Moxley quello di sicuro si era già detto ai tempi il fatto che ora ci sia Danielson lì è perché non c'è Moxley il fatto che fuori Omega si vada direttamente con ok mettiamo i due top subito lì e tutto il resto ci mettiamo in JF Darby Allin perché comunque hanno già dimostrato di stare nei main event degli show e di avere come ha detto Danielson gli hanno dato a questi personaggi il modo di far dire al pubblico oh main event Darby Allin contro Paninazzo eh però è Darby Allin fammelo vedere fino a due anni fa era Darby Allin ma chi cacchio è ma chi lo vuol vedere è uno che si tuffa adesso è chissà come si uccide cioè almeno che le hanno interesse Angwin è il perfetto esempio da l'ultimo del carro dell'elita cavo è shit tutta la sera Danielson è evidentemente un piano B in questo momento nel senso che rimango l'accelerazione sì no sì l'accelerazione nel senso che il piano originale sono convinto fosse Moxley però sì anche io giurati ci abbiamo riflettuto tanto su questa cosa però notate che tipo cioè notate voglio dire ti faccio un esempio la cosa che mi piace dell'AW è che non è storia centrica cioè la storia principale viene sempre puntellata da faide che nascono o storie che comunque nascono magari anche collaterali laterali di medio di medio termine però ti reggono comunque lo show cioè se tu adesso fai un esempio su SmackDown togli la storia della Bloodline e magari non sia mai dico non sia mai assente Roman Reigns finisce lo show perché l'hai costruito in modo da essere diciamo storyline principale sai cosa non è tanto quello il problema cioè sì è un problema però il discorso la grande differenza tra l'AW e la WWE a livello di stile di booking delle single storyline secondo me è questa che è una grande differenza a livello di importanza in WWE hai tipo Rollins in questo momento è in faida con 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 Big E nel senso comunque Rollins in questo momento andrà poi per titolo del mondo ed è in faida con Big E però in questo momento Rollins con chi è in faida a parte Big E con nessuno lo stesso Owens in questo momento è in faida con Big E però a parte quello con chi è in faida con nessun altro e questa è la grande differenza praticamente Big E fortunatamente adesso ne ha due che ne ha contro però per questo dicevo fammi finire fammi finire ogni faida in WWE è a sé stante cioè i due protagonisti tre quelli che sono della faida vivono nel loro mondo e non hanno altre faide nella diciamo allo stesso tempo non hanno cioè in quel mese in cui sono in faida con quella persona esiste solo quella persona la stessa Sasha Banks con Shotzi a SmackDown in questo momento ci sono solo quelli due lì praticamente non c'è Charlotte non c'è non ci sono nessun altro e la conseguenza di un atteggiamento di questo tipo qual è? a livello di a livello di di faida durante gli show che interagiscono sempre loro due e alla fine la terza settimana ti rompi le balle perché comunque la fin fine le combinazioni le finisci praticamente dentro un certo livello in AEW questo non succede perché comunque in AEW hai Kenny Omega contro M&Page ma nel frattempo Kenny Omega con chi ha fatto file ha fatto file con 4 o 5 persone nel frattempo ma tutti sono così e serve questa cosa innanzitutto mantenere le storyline le storyline più varie quantomeno più variegate ma allo stesso tempo serve anche a tenere lo show praticamente molto più variegato cioè quante volte a Dynamite vedi lo stesso match in due settimane mai praticamente no 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 mai ogni tanto qualcuno qualcuno lo vedi poi ogni tanto qualcuno lo vedi ovviamente per ovvi motivi però sono eccezioni non è la regola cioè in WWE è capitato di vedere lo stesso match a tre settimane su cinque praticamente durante la pota dei Rodgers due palle quando ci sono le stesse match le cose te ne accorgi subito siamo diventati un po' viziatini da questo punto di vista come si dice sul fatto per esempio Orange Cassi di Mattardi esatto perché la vedi un po' stagnante però anche lì Orange Cassi di Mattardi quanti match hanno fatto uno contro l'altro uno quattro quattro ne hanno fatti uno contro l'altro tra una cosa e un altro no io non mi parlo uno contro uno tu dici i singoli adesso te lo dico uno contro uno sì non conto praticamente i tech team eccetera eccetera io parlo uno contro uno lo stesso M&Page che Gnomega quante volte sono affrontati uno contro uno due alla fin fine in due anni insomma direi che direi che comunque è un bel lavoro da quel punto di vista fosse stata in WWE una roba del genere in due anni hai voglia quante volte si affrontavano ma perché è una differenza di stile praticamente a livello di booking personalmente trovo molto più noioso in modo di fare della WWE gradirei ed è una cosa che dico da un po' di tempo non è una cosa nuova che dico in questa puntata gradirei che si tornasse a una situazione a livello di stile di booking simile a quella del 2000 nel 2000 in WWE vedevi comunque situazioni di questo tipo anche perché c'era Chris Kreski che era il head writer della compagnia che aveva nel suo ufficio il famoso storyboard con cui praticamente teneva conto di tutte le storyline della compagnia tutti i vari allenamenti e infatti è un anno dal punto di vista della continuity della logica il 2000 in WWE se avevano andato a recuperare sul WWE Network dannatamente è stato valutato ma dannatamente è coerente cioè nell'intero anno vedi raramente dei buchi logici a livelli di storyline ci sono ma non sono a livello di quelli che abbiamo avuto diciamo negli ultimi anni in AEW che non è perfetta sotto sotto nessun punto di vista la situazione è fortunatamente molto migliore per quanto riguarda la varietà dello show la varietà delle fight perché lo stile di booking è profondamente diverso rispetto a quello che è la WWE in questo momento perché gli universi non sono fortunatamente a sé stanti ci sono tipo lo stesso cioè Darby Allian adesso che comunque con MJF probabilmente non è finito è in fight con il Gun Club che è una cosa che magari può far inorridire dal punto di vista dal punto di vista della qualità è detto ma come Darby Allian in fight con Billy Gunn però quantomeno serve a mantenere un pochettino varie le cose è comunque una cosa un pochettino diversa sulla qualità si può discutere naturalmente siamo qua per questo però la situazione diciamo è comunque già una migliore che lo stanno pushando a Dark Elevation come imbattuti uno e due va bene così cioè tanto è due mesi che li fai vedere nei tuoi show che non perdono mai fanno sempre gli sbruffoni sempre sono partiti dal turn-in di Paul White va bene per Darby Allian per fare tre vittorie pulite va benissimo tra l'altro ma lo sai che io avevo accarezzato l'idea e spaventato l'idea visto che si vociferava di questi titoli trios che siccome l'IW ragiona così cioè dà il primo titolo a chi sa più storia più diciamo no alle leggende mettiamola così o comunque più che altro dà il titolo a chi è più chi ti serve di più per vendere praticamente il prodotto o ai veterani che magari sono conosciuti ma infatti io sono abbastanza convinto che comunque ci abbia ovvio che sia così non c'è niente di male sul primo regno titolato ci abbia messo molto il becco TNT cioè comunque TNT gli ha detto guardate a noi fa comodo che il primo campione sia uno come Chris Gergo che comunque è forse il nome più grande che avete dal punto di vista del mainstream quindi è perfetto per noi infatti però no per questa cosa appunto del no per questa cosa proprio del del Gang Club che come diceva giustamente già Luca stanno venendo presentati come imbattuti come una diciamo striscia molto positiva avevo iniziato a dire vabbè ma forse il titolo Trios lo sparano diciamo come prima cosa al Gang Club è un regno breve però per dargli un po' l'avvio e poi magari lo perché effettivamente li stanno proponendo nei match altre cose per quanto riguarda per quanto riguarda gli show di questa settimana abbiamo avuto un classico rimescolamento delle acque nel senso che e anche grosso grosso fino a un certo punto però alla fin fine però sì di base effettivamente hai praticamente visto che si parlava di non c'è Omega non c'è Moxley hai praticamente già in senno se un giorno dici non facciamo la roba di Paige Omega un main event fatto e finito cioè piacere MJF ma chi se ne frega ciao MJF e punk io sono abbastanza a me lo stai dicendo cioè io non vedo a me è veramente fatto e finito senza neanche fare la storyline ma non c'è bisogno vanno avanti a promo così no dicevo come si dice il discorso il discorso come posso dire il discorso per quanto riguarda per quanto riguarda punk e MJF io sono abbastanza convinto che sarà il match di revolution quello comunque si arriverà a revolution con il match praticamente tra questi due la sfida è tenere questa faida viva per tre mesi perché comunque revolution a febbraio quindi comunque bisogna vedere sicurati MJF pagherà qualcuno o troverà qualche il no no io parlo a livello di promo io credo che i due non si debbano toccare fino a febbraio no non si toccano fino a febbraio secondo me tra l'altro vi voglio dare una chicca vai non l'ho fatta ieri te la regalo oggi Eric pensa la maglietta che aveva punk è una maglietta di un disco dei Rancid che si chiama Outcomes the Wolves il primo la prima track di questo disco la traccia 1 si chiama Maxwell Mordor cioè l'omicidio di Maxwell praticamente che è perfetto tu capisci perché non lo devi amare la follia è perfetto è perfetto è un po' come parlando di easter egg siccome le magliette di Omega non sono mai casuali perché non lo sono come quella di Cookie Monster esatto o anche quella di Chick Magnet che aveva si poi aveva una mi sembra su Danielson o comunque qualcosa di simile mercoledì mercoledì 6 bis sei notato aveva una maglietta dei Golden Lovers quindi non è casuale probabilmente la situazione cioè non è una coincidenza ne trovi tantissime di queste cose ma simile è fatta apposta perché ti diverti tanto è fatta apposta saranno di frattimento easter egg figurati cioè non è niente praticamente niente praticamente fatto apposta è al caso scusi contrario niente niente è casuale in AEW ma sai pure perché secondo me Eric vai vai scusami ti tiene alta l'attenzione questa cosa certo perché se ci fai caso tu lo sciolo devi seguire perché molte volte le risposte non arrivano tanto dal ring quanto da tutto il contorno delle interazioni quindi anche quello che magari quando ne parliamo che stiamo in diretta su Twitter hai visto che comunque bisogna stare attenti perché ti perdi magari una cosa non è che vai avanti per molto senza capire è un modo è un modo praticamente della AEW di premiare l'attenzione dei fan cioè comunque cioè prestare attenzione a quello che vedi a quello che succede in AEW viene premiato perché comunque poi quando per dire quando hanno fatto l'abbiamo detto ai tempi quando hanno fatto il turn di Omega che l'hanno unito con Don Callis se tu vai indietro a rivedersi i vari filmati gli indizi ci sono diciamo che questa cosa di lui che va a impact delle cose che stava bollendo in pentola tipo quando avevano fatto l'intervista che erano in questo luogo dove sono andati c'era la foto di Don Callis con suo zio praticamente stavano lottando il fatto che quando quando praticamente Omega e Callis hanno detto andiamo a impact la macchina era la stessa di Omega che quando se n'era andato dopo il dopo il match di di All Out credo del primo All Out nel 2000 o del secondo All Out del 2020 quando aveva chiesto i Bucks siete con me siete con me o contro di me venite con me andiamo dobbiamo andare eccetera ci sono questi indizi praticamente nelle storie dell'AW la maggior parte delle cose non sono casuali praticamente in AW tutto ciò che vedi può servirti esatto esatto è bello ed è proprio bello perché è un modo molto maturo di seguire il prodotto nel senso incentivano comunque un'utenza molto più critica certo sveglia diciamo anche nel guardare le cose più interattiva secondo me poi si percepisce questo tanto scambio tra il pubblico Tony Khan il booking diciamo i talenti perché io per esempio sto impazzendo da quando è tornato punk non solo per marchismo ma perché è diventato un'enciclopedia sono continue citazioni a me queste cose mi tengono accese il cervello che secondo me è uno dei principali punti di piacere di chi guarda il wrestling ma al di là di quello se tu facciamo un esempio stupido di attenzione al dettaglio in questo modo cioè youtube è pieno di gente che guarda i video dei trailer della marvel della dc eccetera eccetera per cercare gli indizi cercare gli indizi cercare praticamente quello che quello che succede c'è comunque c'è comunque quel tipo di fandom quel tipo di fandom specialmente nei fenomeni di nicchia come il progresso perché comunque il progresso è un fenomeno di nicchia alla vivina che ci piaccia o meno anche i fumetti comunque i film del DC universe del marvel cinematic universe anche se fa ridere parlando di nicchia perché parliamo dei film che incassano di più probabilmente negli ultimi cinque anni però comunque c'è quella quella nicchia di fan ossessionata che praticamente va a cercarti con il lanternino gli indizi durante i trailer per vedere ah c'è questo quindi ci sarà questo personaggio quindi e va bene va benissimo perché comunque è un modo sono fatti apposto ovviamente gli indizi che mettono nei trailer quello è ovvio però comunque è un modo per premiare l'attenzione di chi ti segue praticamente di chi comunque ti guarda e ti apprezza quindi diciamo va bene che comunque l'AiW abbia questa politica ed è una ripeto una politica che premia l'attenzione degli appassionati ti faccio un altro esempio quando quando MJF creò il pinnacle tu andavi a vedere i promo precedenti c'erano molti promo in cui praticamente sia gli FTR che MJF che altri membri della stable utilizzavano la parola pinnacle cioè comunque non era non era casuale praticamente non era assolutamente casuale ma guarda il tema del pin prima ancora proprio della presentazione del pinnacle Tallis era presentato con la giacca con i nei rever c'aveva le cime se le guardavi bene c'aveva tipo delle cime di montagna con i brillantini e in questo senso credo anche che le parole di punk sul fatto che non esista più un fan casuale del pro wrestling sono reali c'è tutta la polemica sul fatto che non è vero dipende da che prodotto guardi secondo me il livello di pubblico dell'AiW non è un fan del tutto casuale del pro wrestling ma il fan casuale il fan casuale il fan casuale secondo me non esiste più nel mondo e appunto neanche secondo me però sai un sacco di polemica sul fatto che il fan casuale esista secondo me no anche perché almeno per il prodotto che è l'AiW oggi è pieno di è un prodotto per appassionati che nasce da un appassionato perché lo stesso Tony Khan come dicevi anche tu giustamente è proprio uno degli appassionati principali con il più che c'ha i soldi e quindi se ne è creato il suo parco giochi però ecco sì c'è il pubblico dell'AiW è assolutamente un pubblico di grandi guardatori di pro wrestling e di persone che appassionate di quello che vedono e infatti c'è uno scambio che si percepisce sia dal booking verso il pubblico che al contrario secondo me Gianluca vuoi aggiungere qualcosa altro poi andiamo ai seguenti aggiungo solamente per chiudere la roba in JF Punk che a me piace risumo tutto questo in adesso come copi tre mesi il fan che se lo ricorda si ricorda cosa ha detto in JF qualche settimana fa quando aveva la faida con Darby Allin a Wardlow e a Spears soprattutto Wardlow voi siete gli expendables qua non mi serve e vi butto nella mischia può anche essere che questa sarà la faida che farà scoppiare Wardlow perché ovviamente lo butterà contro Punk e Punk gli dirà non lo vedi che ti usa che alla fine dove vince vince lui non vinci tu vince solo lui infatti secondo me il famoso leak bravo Gianluca perché il famoso leak Punk Wardlow lo vedremo perché sarà l'avvicinamento ad arrivare ad MJF quindi Sean Spears io credo di no io credo di no io credo di no e ti spiego ti spiego anche il perché del fatto che non sarà così per cioè puoi anche fare lui che si fa tutto il pinnacle però è la stessa storyline che fa Brian Anderson con il Dark Order quindi non chiedo no non devi farti tutto il pinnacle cioè MJF che usa gli altri no non il pinnacle i due che vengono usati da quelli che ha chiamato lui gli spendevo se voi siete gli spendibili quando mi serve vi butto nella mia schia tanto vinco io cioè Punk che dirà guarda che comunque vince lui anche se vinci contro di me cioè non gliene frega nulla se tu mi batte il peggio vi volevo porre l'attenzione su perché secondo me hai ragione tu Gianluca perché se ricordate il promo del rotto di Punk mi sto ricordando chi sono Punk è notoriamente uno che ha fatto la voice of the voiceless quello che è un po' contro nonostante fosse il però un il molto particolare che quindi contro le ingiustizie contro questi bulli che proprio MJF è proprio l'antitesi e la nemesi di Punk per il suo personaggio quindi secondo me potrebbe tranquillamente andare a fare leva l'aveva fatto anche con lo shield se ti ricordi quando ci fu la faida con lo shield com'era la faida Embrose fa cagare lo batto sempre Roman però con questi due non vinci mai magari mi batti pure ma chi è più forte dello shield ma non vedi come ti tratta tanto se vinci vince lui se perdi perdi tu esatto ma io sono d'accordissimo con te su questo Sean Spears non contro la sega sarà un match per farlo giusto per far contento Sean Spears e World c'è quella storia lì comunque va da Punk glielo dirà guarda che alla fine vince lui se tu perdi perdi tu lo capirai che quando JF perderà la colpa la dà di Expendables chi è l'Expendables? tu certo non io Sean Spears se ne frega assolutamente sì cioè io sono d'accordo con FTR che ci sta a livello di storyline cioè gli FTR li ha prestati e gli dice tanto a me me ne servono due da sprecare voi vi tengo d'occhio mandate a vincere i titoli di coppia World pensa anche quello quelli li hai mandati a vincere i titoli ma anche perché gli FTR ce l'hanno le loro cose sono anche impegnati in altro di più diciamo importante tra virgolette che fa il cane da guardia di MJF ma in storyline gli ha dato i soldi un alleato potente ai titoli cioè World gli dirà ma a me non mi dè nulla che sono qui dal primo giorno certo assolutamente e mi sono presa tra l'altro dalla volta che ti sei le famose presidenziali di MJF che ti sei preso praticamente tutta il fango addosso povero World è città che poi esplode e punk mi sembra il perfetto è quello che dicevi tu la faida secondaria interna a questa faida sarà World che dice l'ho capito tutti hanno un'opportunità tutti di là io devo pulirti la merda a te e comunque se vinci sono io il migliore anche il promo che ha fatto a Diamond ha mai ringraziato gli altri no perché ha vinto lui e quindi anche tutto il lavoro che hanno fatto sporco gli altri non gliene frega niente il solito sindacalista sobbillatore per cui andrà così secondo me hai ragione hai colto il punto troverà che ne so una puntata faranno un match a gennaio a Rampage e lui nelle settimane dirà ma non lo veri che tanto può alla fine vince lui tanto se vinci tu cosa ti dà gli astiarano i titoli Sean Spears e il chairman tu chi sei vediamo un po' vediamo un po' cosa faranno è quello come dicevi tu all'inizio cioè è un modo per creare una seconda storia all'interno della storia in modo tale che il fan comunque dice vedi non è che se mi sono accorto che Wardle lo prende per il culo per mesi non mi premia quella compagnia col booking mi fa capire guarda panca quel tipo di personaggio lì è l'uomo perfetto per dirgli ciccio sarà il momento che glielo chiedi ma io cosa prendo in cambio e l'hanno avuto tutti nel pinnacle qualcosa che sta in cambio pure Sean Spears ha la sedia e il ruolo di chairman Wardle non lo chiama in nessun modo non neanche non solo non solo ti ricordo che Sean Spears è l'account Billy Buddy ricordiamolo di di vabbè ma puoi usare qualsiasi scemenza però per farti capire non lo preme niente perché almeno Sean Spears gli lascia chairman a lui cosa gli da e poi lo chiama anche male cioè vabbè ma tu ci sei prestato che se ne fotte sì sì no ma è assolutamente così almeno io penso che vada veramente così io non penso da quando hanno messo gli aficiati da soli nel senso ve li presto li pagate li fate vincere cioè proprio la sua idea è tutti gli altri li tengo buoni e te chi se ne frega sì sì vediamo un po' anche perché Ward lo è già un pochino contrariato da un po' di facce che ha fatto un po' di cose ci sono si sono già arrognati diciamo e a Dania quando hai detto io sono il più grande genio io ho proposto io ho fatto non mi ricordo quante volte ha lottato in JF nella fight con Darby Allen giusto per sapere no Excalibur ci hai detto io dovrei essere numero uno del ranking e Excalibur dice lo dice quello che lotta tre volte all'anno che è vero tra l'altro ma lo pensano tutti ma non credere che Ward non lo pensi mi fa lottare due volte all'anno allora no ma nel suo caso praticamente per quanto riguarda per quanto riguarda lui non mi viene la Genek l'aveva già detto nella fight con Mops no no nel senso nel senso nel senso nel suo caso il fatto che lui lotti tre volte all'anno per gimmick ci sta cioè ha perfettamente senso che lui che lui effettivamente lotti tre volte tre volte tre volte all'anno praticamente in in compagnia comunque tornando a noi tornando a Rampage praticamente di che scusa Dynamite di questa di questa di questa abbiamo avuto non un Turnill ma un Brian che ha detto ok io posso anche aspettare ti uccido uno a uno tutto il Dark Order vediamo se mi dai poi il lasciato titolata perché c'è stata la festa anche come ha parlato anche come ha parlato con Langman io non lo chiamo Turnill ma non ha certo parlato da Face no infatti comunque è stato parecchio cattivo proprio andare anche nei suoi punti deboli ha fatto anche un po' lievemente stato a parte è stato fischiato vabbè per la questione Wrestlemania però è stato comunque molto ha messo molto il dito nella piaga dell'edifico che è poi quello su cui regge l'epopea e diciamo l'epica dell'Hangman cioè il fatto che io lo so che tu non sei pronto cito un grande attore un po' un John Wayne che guarda un cowboy di secondo piano ehi kid a te sei arrivato adesso piano con le parole e qui il cowboy sono io ok Brian che dice io ho anche fatto tu sei stanco io l'ho tanto anche al Wrestlemania il giorno dopo figurati cosa mi ti colgo a sentire ci sta cioè è il John Wayne che va dal cowboy che fa il film e gli dice hai vinto una volta ci sta perfettamente effettivamente non è ha totalmente ha totalmente senso esatto ha totalmente senso effettivamente il grande attore o il grande rest che va da quello che ha appena vinto che è stanco finito e gli dice kid io lo faccio da 20 anni cioè non venirci a dire panzanate quando ci batteremo sai già come va a finire anche il fatto di aver detto ok ok posso aspettare ti faccio fuori tutto il order quarter e inizio da quello lì e vediamo e vediamo un po' cosa cosa succede Eivolune è stata la prima vittima purtroppo come scusa non ho capito Eivolune è stata la prima vittima perché ha puntato un dito tu vediamo un po' diciamo come va a finire da quel punto da quel punto di vista però alla fine ne parlavamo ieri sera io e Alessia cioè non è tanto un vero e proprio turnillo però è un'accelerazione sicuramente ci saremmo arrivati a questo punto probabilmente perché comunque i sottotoni lì Brian li ha sempre avuti da quando è arrivato in da quando è arrivato in AEW quindi non è una particolare non è una particolare sorpresa diciamo infatti come dicevamo se ti ricordi già proprio l'intervista del Meteascrum dopo All Out lui ha detto vabbè Punk fa i buoni sentimenti che vuole lavorare con i giovani io gli voglio spaccare la testa cioè che non è proprio una dichiarazione pacifica no anzi tutt'altro tutt'altro raggiungerei raggiungerei anche da quel da quel da quel punto di vista tornando a tornando a noi praticamente tornando alla alla puntata di alla puntata di Dynamite di questa di questa settimana abbiamo detto di MJF con Punk che praticamente gli arriva sul ring braccia concerte a dire praticamente senza dire niente a dirgli vabbè qualcosa da dirmi stronzetto cioè qualcosa hai qualcosa da aggiungere che nessuno nell'ocro non può battere nessuno può avere l'artore di andare sul ring e dirgli qualcosa che è il mio universo dimmelo vieni hai qualcosa da dirmi diciamo da quel da quel punto da quel punto di vista e poi abbiamo avuto il no vediamo anche dell'altra grande cosa della puntata ovvero il grandissimo Tomo Hiro Ishi che si è fatto vedere a Dynamite e ci ha regalato ci ha regalato magie ce ne ha regalate anche anche tante c'è il come dicevo prima c'è quel quel momento quel momento praticamente del match dove la regia praticamente insiste su di lui e zooma su di lui e lo vedi che sta sprofondando nella game face praticamente la game face da diciamo adesso devo ammazzare qualcuno esatto mi è molto mi è molto piaciuta Tomo Hiro Ishi è l'uomo lattina perché non ha collo ma come l'uomo lattina ma come l'uomo lattina in che senso l'uomo lattina non si spacca nel fisico lattina ok va bene si ammanca ma non si spacca cioè è sempre un'uomo lattina che ammazzata hai visto è una bella catch va beh opinione diciamo beh possono fare il duo delle lattine discutibile la lattina di arancia e la lattina di esatto bravo bellissimo questo vedi great mind thinks alike great mind thinks alike comunque si però può fare solo cedata tassoni immagino Ishi per l'età e non credo sia una pezzi la scuola no infatti non credo non credo quante cose al mondo puoi fare e Ishi ti può picchiare prendere i pugni e non sellarli o il chinotto anche che era pure abbastanza vintage è un po' più frizzantino come lui all'angolo quando ha cominciato a dare a Butcher quelle 15.000 volte e Butcher non si è più alzato esatto va bene e il suplex che lo fa sempre vedi le menti del pro-restling che pensano sullo stesso piaio qui stiamo giocando ma il suplex se fa Ishi a quell'età perfetto come lo fa lui e chi lo fa anche quello praticamente è un'altra cosa di cui parlavamo cioè tu guardi Ishi sembra che sia un lottatore praticamente tenuto su col fil di ferro e poi va su ring e ti fa delle robe allucinanti dal punto di vista del diciamo del puro ho fatto quel German suplex che a me non piacciono fatti così però se immagino che comunque fisicamente non te ne dà tanto vuol dire che si sa tenere bene su un ring per 15 minuti cioè se ha avuto la forza da sfinito di fare German suplex a Blade cortissimo subito a rilascio immediato ragazzi ha comunque un'età che già fare e si blocca invece lui come ha detto bene Alessio una lattina si è ripreso e rialzato pam 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 a Blade tutta la sera no ma anche ragazzi anche Suzuki però ti dà l'impressione cioè appena lo vedi che comunque è piccolo piccolo cioè sembra un po' accartocciato anche dall'età nel senso lo vedi anche come cammina non gli dai il dulire quando sale sul ring cioè deve essere una cosa io avevo un maestro di karate giapponese che non gli avresti dato cioè a livello fisico era un fuscelletto una cosa proprio anche piccolino per l'età era una roba cioè deve essere una cosa è una cosa sicuramente di atteggiamento nei confronti della marzialità del corpo però veramente cioè sono persone che anche a un'età più alta più avanzata fanno delle cose pazzesche si si ho fatto il match con l'Alexander a Impact devo ammettere che l'ho visto tante volte al 50% dell'energia ho fatto un match pulitissimo e ha comunque quel fisico e quell'età lì contro un giovane che non è un giovane però cioè gli sci su tutti sono dimostrazioni che se ti sa tenere vai sì no ma perché lì l'approccio è un approccio del tutto tra l'altro è uscito proprio anche ieri sera il discorso è proprio un approccio di equilibrio tra mente e corpo cioè lì non si basa sul muscolone pompato cioè è proprio il contrario dell'atteggiamento diciamo un po' occidentale verso la forza non è Dante Martin ma non è neanche Powerhouse Ops giusto per unirci a un equilibrio che non potrai scalfire anche a 60 anni poi di Dante Martin continuano io ho idea che qualcosa arriva nel Tintezo però non so cosa perché ripeto non credo nessuno di quelli lì ma io non credo però che lo stacchino con gli Orash da gli Orash adesso anche perché poi Darius dice il dubbio il dubbio te lo lasciano quantomeno cioè il dubbio il dubbio c'è che comunque loro possano possano alla fine andare a prendere noi siamo anche in attesa di Brian Cage di certo io sinceramente Brian Cage non sono in attesa a postare no nemmeno io francamente no dicevo però deve finirla la storia voglio ricordarvelo che deve ancora uccidere no quello che volevo dire è che relativamente al team taz mi aspetto che comunque il team taz vada ad ampliarsi nelle prossime settimane cioè comunque uno mi sa che andranno inserirlo praticamente nel gruppo se deve arrivare un nuovo arrivo nei W va lì perché mi sembra la storyline perfetta devono trovarne uno per battagliare Martin e Ryo Rush sì 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 sono d'accordo su quello non avrai obiezione da me io ho anche l'idea che fanno 4 contro 4 4 contro 4 Luca adesso vediamo se arriviamo allo stesso punto vai altro grande momento della serata di ieri lo sapete qual è sì vediamo se già Luca ci arriva subito sono ancora a pensare al 4 contro 4 no perché pensavo team taz con quello nuovo contro Seidel Moriarty Martin è possibile la voglia sì 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 fanno un 4 contro 4 col nuovo e fanno vincere magari Dante Martin chiudono la faida e lo lanciano magari per un title show TNT credo che la faida poi si vada a finire con vedere Huck sul ring e Martin che vince eccolo lo sapevo che lo nominava grandissimo momento ieri ieri grande momento ho rivisto Huck finalmente va sul ring a me danno l'idea che lo fanno il 4 contro 4 quindi va sul ring Huck comunque io vorrei dire adesso al di là della mia gimmick della mia gimmick da fan di Huck sì cioè questo qui ha fatto solo una cosa a livello di mossa ma se solo ha preso metà vabbè che il talento non è trasmissibile geneticamente ok però se questo solo ha preso metà il carisma del padre secondo me ce l'ha e non deve parlare cioè lui farà la figura che non è che parlerà tanto come il padre però a livello di carisma secondo me c'è ma se ha preso metà di taz del caro Senerchia perché si chiamava Peter Senerchia sì esatto cioè io direi che possiamo essere molto che contenti e contente cioè contentona io di Huck a posto perfetto possiamo andare ma mi sembra che poi ci si arriverà che si uniranno i due maestri con i due giovani contro il team Tezza a quel punto il team Tezza per non stare sotto numerico Taz manda figlio vuoi dire voi avete i vostri soldatini io mio figlio perché alla fine la fai dai Saidelle di Orash usano questi ragazzi li usiamo noi alla fine quando si uniranno questi due team Taz arriverà a dire allora io metto mio figlio in campo che almeno non è un soldatino è mio figlio Huck comunque che non deve parlare è il solo picchiare la leggenda sì magari fai fai un 4 contro 4 con qualche stipulazione per far portare al next level Dante Martin perché alla fine l'obiettivo è quello cioè oltre a mettere Huck su ring e mettere Dante Martin vincitore di tutta la paglia Dante Martin però l'hanno sparato già forte già con Malakai secondo me già da un posto eh ci sta che gli fai battere tutto questo team con le Orash che ma è dura battere un team da solo Dante dobbiamo batterlo insieme con i nostri amici perché alla fine è anche quello che gli sta insegnando le Orash che in certi modi deve anche vincerle lui sì ci sta visto che comunque li metti contro un team che poi avrà il figlio io ho mio figlio Huck esatto Huck Sandhuck mamma mia ve lo ricorderei vediamo vediamo un attimo lì ora non ti dico War Games perché sennò Dante Martin muore se si tuffa da 40 metri però parte da 40 metri la contestina Huck viene da male fai il conto lo so che è un War Games del cavolo per Star Power però avresti un team di svolazioni contro un team comunque di buoni lottatori ora togli Huck però chiunque mette il team Huck ha Iops che è bravo non parliamo di Ricky Starks che è un fenomeno puro Ricky Starks è bello di comunque e poi nell'altro team avresti vabbè Lio Rush è il veterano che sta fermo Seidel che si muove un po' poi Moriarty ma oddio che sta fermo Lio boh cioè è velocissimo sta facendo delle cose pazzesche comunque lì il problema di Lio è capire quanto anche loro pensano possa andare perché sì si è ritirato anche un po' di volte quindi ah il problema è che lui ha un botto di problemi fisici anche poverino no l'ha avuti l'ha avuti quello poi in tutta quella fida lì l'unico problema è solo Lio Rush capire se Lio Rush ce l'ha per fare match e fai da lunga oppure lo usano giusto accelerano e poi lo portano lo mandano dall'altra parte perché non dà garanzia secondo me invece la stanno strutturando sul medio periodo quindi li vedremo ancora un po' perché io penso che stiano anche aspettando il recupero di Darius cioè del fratello di Darius a quel punto lì che è quello purtroppo come dice molte volte Eric che quando succedono queste cose l'altro se si rompe e tutto il team partner va super over c'è due alternative o lo fai fra i fratelli o vabbè accetti il ruolo minore perché comunque non metto un dubbio Darius sarà buono però no a meno che non fai quel discorso di lo teniamo in caldo finché non ritorna e poi ricomponiamo il duo puoi fare il tech team si puoi rimettere il tech team per il tipo di coppia si lo devi rimettere in piedi era già un tech team erano i cosi si sono uno della famosa EIW initiative come ora viene definita ovvero il periodo in cui hanno provato tutti per via della pandemia adesso si ritrovano gente comunque come di Dante Martin e Mick Harding è arrivato perché hanno portato totalmente tanta gente di prova che i tanti che hanno firmato alla fine qualcuno ne è uscito che è una star per fare lo show e di Acclaimed che sono l'unico act rapper mai rimasto al mondo come ha detto ovviamente next caster ebbè hanno vinto si no vabbè ma loro erano i top flight Darius e Dante erano i top flight quindi comunque loro cioè avranno il periodo della pandemia l'IDAW ha provato un sacco di gente così cioè avevano preso tutta gente dalle indie per impolpare i roster perché quello aveva il covid quello non c'è quello non può viaggiare qualcuno che ha firmato si vede che vedi Dante Martin se lo sono trovato in mano è meno male eh sì magari sarebbe andato tipo a next o un'altra parte un Giappone perché comunque a un certo punto vai lì invece nei Dabi l'opportunità c'era perché non c'abbiamo nessuno venite voi a lottare per noi poi hanno detto fermiamolo immediatamente dopo due giorni ti ricordi eri che quello inglese che avevano provato a Dynamite che poi andò a WWE ah sì l'esempio era quello per esempio uno come lui no guardate un'offerta da NXT vado là mi danno il doppio e invece Dante Martin è visto ok se portate mio fratello dipende se lo valorizzi allora uno può decidere dire se no ma è bene da quel periodo lì per dirti anche l'AW quando ha fatto il periodo dell'AW Initiative qualcuno che gli ha detto no grazie mi offre la WWE il triplo oppure no non voglio apparire in tv credo che fosse nel caso del lotatore inglese credo che fosse una questione di permesso di lavoro alla fin fine però sì eh vabbè però ti offrono il triplo è ovvio che ci pensi purtroppo può capitare anche quello ti ripeto hanno dovuto mentre ne tanti così in quel periodo lì speciale hanno trovato hanno pescato tipo il maresciallo purtroppo hanno pescato il maresciallo chiuti chiuti che ne prenderà un sacco una sporta se Dio vuole durante la prossima non ha alcun senso vabbè è il suo ruolo dai ma me non lo capisco io non chiuti ragazzi però scusate se vi state stupendo di questo fatemi capire quando è che no appunto dico ma chiuti quando è che è stato diciamo è stato centrato mai cioè lui è sempre decentrato cioè arriva a fare delle cose fatte di è uno dei miei stelle di questa compagnia come parte la sua posizione che è importante perché comunque è uno dei bracci destri di Cody nella compagnia ci sta comunque è il classico se avete bisogno mi presento io eh sì ma mamma mia ti sfida Chicago perché tu non hai la voglia di sfidarti ma bella scelta guarda proprio un'idea geniale ma sì ma guarda che in gimmick ma in gimmick guarda che Chiuti Marshall è un idiota quindi ci sta perfettamente l'ho visto guarda l'ho visto anche mi sembra a Delevation che ha avuto un'altra uscita così portatemi il rispetto che sto affrontando un grande lottatore per 4 minuti vabbè lascia stare preferivo i wingman io preferivo i wingman se dobbiamo mettere gente così preferisco i wingman che almeno erano idioti ma almeno l'intento era Jerry Drake che doveva lottare per coprire gli idioti lo sono ancora talato non è che non è che ma almeno c'avevi Jerry Drake che diceva vabbè vado io sul ring tanto questi tre non capiscono niente uno parla anche brasiliano vediamo un po' tornando a Dynamite per quello non possono portarli sempre tornando a Dynamite dicevo tornando a Dynamite dicevo Naila Rosa con Torika Roshida per il torneo per il titolo TBS carino a me non è spiaciuto un buon match io l'ho trovato un buon match il risultato il risultato non era in dubbio per quanto mi stupisce nemmeno per quanto mi riguarda perché specialmente dopo il match di full gear sapevo che bene o male che bene o male praticamente ci sarebbe stato la vittoria della scida molto interessante scusami la vittoria di Naila Rosa sì molto interessante la vittoria di Naila Rosa come diciamo ieri sera Eric per l'intervento della Dib quindi questo match ha contemporaneamente stato avanti la fai da sci da Dib molto interessante il lavoro il praticamente vendersi il selling dell'infortune al ginocchio precedente di Icaro Naila un bel match non me l'aspettavo è stata molto centrata questa volta non mi è spiaciuto sai come la penso su Naila perché ne abbiamo parlato ieri fortunatamente sono uscite tutte abbastanza vive quindi va bene così sono state tutte bene anche il match è stato bellino da vedere ripeto carino per quello che da lei mi sono divertita mi sono divertita sì sì e poi continuano la fai anche lì sci da Dib l'ha fatto due volte ma la fai da detti tre mesi no però ragazzi io sci da Dib ci metto la firma e me li voglio vedere per altri 18 match cioè quelle due fanno ogni volta tirano fuori dei capolavori soprattutto la Dib la bellezza che abbiamo detto prima per dieci minuti lo sai che questi vanno lunghi hanno comunque costruito la fai da su non si vogliono cioè si rovinano a vicenda più prima di ribattersi la terza volta intendo ad essere ognuna rovinare l'altra in qualsiasi modo tra l'altro a proposito di durata del match me lo sono dimenticato ieri ma lo dico lo dico qua Eric c'è Langman che ha detto a Brian ha detto sì sì sai perché non c'è Omega quando adesso sono tornata un po' indietro però mi è venuto proprio in mente quando ha parlato di minuti di minutaggio Gianluca quando gli ha detto io volevo che cavolo volevo che ci fosse Omega a batterti a battermi e lui ha fatto sì sì non ti preoccupare Omega non c'è perché l'ho battuto a full gear e tra l'altro mi dicono che l'ho battuto in meno di 30 minuti sì esatto che è tutta la storia diciamo appunto sul pareggio il motivo per cui Brian se l'ha preso ha diventato John Wayne ha detto hey kid adesso cresta meno che ti faccio male che è lì che gli è partito il esatto è lì che gli è partito John Wayne gli hanno fatto il match dopo tu non sei arrivato a nessuna parte eccetera eccetera e dalla battutina la battutina effettivamente gliel'ha fatta e non non è stata non è stata male francamente diciamo è stata buona è stata buona ha perfettamente ha perfettamente preferito 15 battute sue come no dico è diventato meno anxious il millennial cowboy è diventato abbastanza diciamo volitivo abbastanza sì se vogliamo si è gonfiato il petto di orgoglio se vogliamo se vogliamo contarla in questo modo sì diciamo che come il petto che verrà gonfiato da sempre anche al Rampage quando gli ha detto va bene ok vuoi sfidarmi lì faccio rivedere io quanto ho paura lo massacra sì ma infatti adesso sto sospirando mamma mia con MJF che ovviamente andrà a commentare e dirà Marshall vedi ha dimostrato che fa che ci ha e mentre dice pa GTS finisce il match va bene poi tornando ad altre cose di Dynamite abbiamo avuto cosa abbiamo avuto no bene ma l'abbiamo detto tutto mi sa perché abbiamo c'è la la questione Semi Gamargelita non abbiamo parlato di Semi Gamargelita esatto bene bello quello che doveva essere non credo niente di diverso da quello che si immaginava c'è un gran match di tutti e due e purtroppo a Rampage abbiamo scoperto che continua i men of the hour con l'inner circle io speravo Guevara cominciasse un pochino a camminare con le sue gambe non so se hanno l'idea di fare penso Sant'Anna Ortiz contro i men of the hour però paura Gerico e Guevara di nuovo comunque vogliono continuarla lo vedrei vedere un pochino a difendere il titolo così cioè che gli mandi questi avversari e lo fai salire di livello come fai stato per Darby Allen e invece mi sa che continueranno con Rich Fod a che voler vedremo cosa accadrà però buon debutto da parte di Jay Little quello si certo vediamo cosa li fanno fare a Little che idee hanno vediamo mi sembra che sarà un po' una good end per quanto riguarda la compagnia come Bobby Fish a Rampage Bobby Fish l'hanno messa in posizione ben diversa perché adesso c'avrà secondo me pure un ruolo nella vicenda Bucks e Adam Cole quando gli hanno detto è perché noi eravamo Andy e non diciamo questa parola c'è tensione nell'aria e se arriva una certa persona e penso che arrivi in compagnia diciamo che non sarei minimamente minimamente stupito di vedere diciamo una riunione esatto una riunione di un certo gruppo mettiamola così dai fai da tre tra i tre tag praticamente ci siamo trovati tutti un amico su cui piangere ehi ma chi è quel tuo amico esatto ma sono due le persone che devono arrivare non tanto cioè non tanto non tanto il buon non tanto il buon Kylo Riley deve arrivare il Kylo Riley esatto Kylo Riley mi sembra abbastanza evidente che comunque ma lo sai che Kylo Riley purtroppo non c'ero ovviamente nella parte precedente avete già parlato a PZF del vagone e finché c'è il vagone c'è bisogno di Kylo Riley neandertal chiedo scusa non il vagone neandertal allora io basta mini triple age voi non ce lo vedete ma che mini triple age ma per cortesia ma ragazzi ha tutto quello che aveva triple age e anche alto più di più cosa volete va bene cioè c'è altro da aggiungere praticamente non c'è da aggiungere lo sapete tutti lo sapete voi lo sanno anche loro è il nuovo triple age oh che poi ma che è il nuovo triple age non c'è niente ma tanto guarda questo questo nel giro di qualche settimana va a Smackdown cioè comunque ha già la storia lì appunto come fu Hunter Semsley che si presenta ma chi è questo cretino che si resta da 800 ma anche lui direte le stesse cose ma chi è questo è il bodyguard di coso di di appunto ma perché lo vedono dicono tu sarai il nuovo IHH con il triple age che piange nello studio a casa sua quello lì tra l'altro abbiamo buone notizie perché comunque c'è un video su tiktok di praticamente di Vince McMahon e dei piani alti della compagnia che stanno visitando la nuova sede della WWE che stanno costruendo a un paio di miglia dalle Titan Towers che ci sono adesso tra l'altro è una scena che fa anche fa anche molto ridere perché si presentano praticamente con i caschi protettivi Vince Stefano e sono caschi protettivi brandizzati da WWE fa riderissimo una scena di triple age che va in giro di triple age che va in giro con sta roba in testa con il logo della WWE cioè veramente ma gli hanno fatto vedere l'occhio di l'occhio di Vince di Vince Huron o di Sauron che monteranno in alto e puntata a Jacksonville no no assolutamente no non ce l'hanno non lo mettono l'occhione fortunatamente fortunatamente no guarda da quel punto di vista con lui che è una da lontana damn it quando vede la gente andare di là no fortunatamente no non sembra esserci al momento una cosa di questo tipo l'occhio di Sauron in alto puntato su quella località vicina in Florida passando invece a Rampage io direi che Rampage è stato molto molto interessante ieri più per gli sviluppi perché tra l'altro abbiamo parlato di Bobby Fish che è stato appunto affiancata da Cole per andare contro Jungle Boy e Luciasaurus che hanno confermato quello che è successo a Full Gear cioè mi sa che anche stavolta non si passa nel senso che un Jungle Boy nel pieno della sua fiducia che aveva giurato basta non ne possiamo più di questi adesso si sono ripresi dalla frustrazione esattamente quindi Luce e Jungle Boy che sconfiggono Cole e Bobby Fish un bel match devo dire mi è piaciuto soprattutto perché è andato a riconfermare divertente ma poi è andato a riconfermare Full Gear e sono contenta perché vuol dire che appunto si sta delineando cioè piano piano ci danno col cucchiaino dove andrà anche là appunto quello che dicevi tu aspettando gli innesti di Kylie di Kevin Steen vediamo un attimino secondo me continueranno un po' a battagliare tra di loro con varie configurazioni ecco almeno poi io vi volevo però porre l'attenzione sul peggior match degli ultimi mese credo che è possibile guardare ecco lo so che sta per dirlo dai dillo dai no dillo tu allora se lo sai no no dillo tu James Cargill è un torneo eh esatto una roba che ragazzi cioè siamo tornati ero tanto contenta mi ero tanto vantata la divisione femminile a me non è spiassuto onestamente come match non sono gli spi veramente cioè finalmente avevo proprio cioè non ti puoi aspettare cioè no veramente era avevo avevo tirato un sospiro di sollievo nell'ultimo periodo che persino Naila Rose faceva dei bei match dove desce duciavattare che veloce ma no ma poverine allora una è trattata come Big Show 99 quindi quello ti dà e quello ti deve farci l'ho già detto l'ho già detto e mi ripeto quel titolo c'ha il suo nome secondo me è scritto sopra lo vince lei lo vince lei è il booking alla Big Show quando arriva un WWE o WWF tempi cioè in realtà no perché Big Show nel giro di un mese giobbava già Steve Austin se non ero pulito ma com'era l'idea quando l'ho preso deve arrivare spaccare e fare botte cioè poi sul ring quello ti dà purtroppo gli metti Red Velvet che deve già vendere e che questa non la butti giù poi comunque a livello tecnico no ma ragazzi però il problema di Red Velvet se io la Cargill un po' se io la Cargill un po' la posso giustificare che comunque ha fatto poca roba squasciettini cioè non è che c'ha dei match probanti sulle gambe no ma poi è boccata così deve fare 5 minuti di match se non trova la scena ne sono andati in onda 6 ieri di match perché poi ci ha dato la pausa e poi ci farei mezzo è pure la questione che lei è molto acerba ancora cioè si vede legnosa per carità ma il problema è Red Velvet cioè questa ragazza ora con tutto il bene gli si vuole pure bene perché per carità ha schiaffeggiato Cody però cioè più di quello cioè più di della minion di Brandy ai tempi non va cioè nonostante stia lì dall'inì dal giorno 1 ma d'altra parte ma d'altra parte quando il tuo fidanzato è Wes Brisco che cazzo pretendiamo cioè non possiamo pretendere chissà cosa cioè quando il tuo futuro marito è lui no scherziamo è una battuta naturalmente però no ma io non capisco lei cioè perché mette allora vabbè la metti in quelle posizioni nella Nightmare Family il legame con Brandy con Cody sì però ripeto almeno Jay Cargher è bucata come Big Show vent'anni fa deve fare match così anche perché è acerba ma infatti è quello che ti ho detto che il vero problema lì non è io lo sa ma la spia che ha fatto dove Jay Cargher si è dovuta buttare a terra perché non ha neanche preso una rincorsa cioè se è lanciata così io dovrei capire che questa fa una spia meno male Jay Cargher l'ha venduta perché se no era un disastro c'è un metro corsettino no ma infatti ti ripeto se posso giustificare con il fatto dell'inesperienza in ring la Cargher perché ovviamente è poco non posso giustificare Brandy ma buco guarda no lo sport della spia devo fargli complimenti alla Cargher perché io fossi stato nelle sue situazioni non gliela vendo ma scusami dobbiamo fare un match dove sono gigante e parti a un metro prendila in corsa vai alle corde che cos'è questa spia cioè proprio io la faccio e tu vendila e meno male la Cargher gliela ha venduta perché era una schifezza assurda se il match è questo ti distrugge bisogna impegnarsi sacrificarsi per lottare con la Cargher la Verbe sembrava lottarsi che ne so con Sky Blue e infatti è quello il problema cioè se deve fare tutti i match così allora il livello non è pronto no ma il livello della Velvet purtroppo non cresce non migliore io gli ho sempre dato 1500 opportunità dicendo vabbè magari sai fa poco perché pure la divisione è messa un po' così e invece manco per niente no non è salita di livello poi quando deve vendere un match diverso lo fa uguale con tutte con tutte le lottative fa tutto lo stesso match con questa non lo puoi fare un match uguale è due metri la devi vendere e fa un match come se fosse contro Brandy vai 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 scusa io infatti c'era su Twitter facendo vedere i match che fece con Brandy fa le stesse mosse ma Brandy è un grissino non puoi fare le stesse cose con Jack Carghi e Brandy poi lei sta bravo a Benny se trovano va bene ok ho capito è un problema è che Jack Carghi in gimmick deve fare così ed è acerba questo è un due anni che è lì ancora fa gli stessi match con tutte con Naila Rose che fa non discuto minimamente ma questo è il problema con Naila Rose che fa la Spiar Naila Rose deve vendere anche Naila Rose la Spiar vuoi che ti dica evidentemente ho capito ma è quello il livello cioè basta cioè se non è pronta a quel livello lì dategli Sky Blue che almeno lotta invece li mettete in queste situazioni vabbè è durato poco non c'è niente da dire però dispiace perché alla fine Targhi brutto dall'ultimo tempo a questa parte della divisione femminile che io avevo tanto respirato ero tanto contenta me la stavo pure vantando ultimamente niente vabbè ma gli ultimi due mesi mi hanno dato tanto tutte però se almeno Naila Rose dici dipende dall'avversario lo ripeto lo scandalo è che questo fa gli stessi tipi di match con tutti ma con qualsiasi avversario li metti davanti il problema è quello lì cioè Jack Carghi ne aveva fatto un po' decente quando aveva fatto adesso vienimi in aiuto però era penso la scida l'ultimo che ha fatto bello perché la scida ovviamente è bravo per lo stile fisico glielo potrei fare sì era stata in grado di portare Velvet a fare un match diciamo abbastanza decente o anche la Baker comunque anche la Baker per il fisico che ha la storia anche avevi quella era in cavolata nera ci ha messo un po' di intensità capito ma se mi metti contro un gigante non puoi lottare come con Brandy cioè non puoi fare lo stesso moveset e pensare che il pubblico te la beve infatti è venuto male ripeto complimenti alla Kargi che comunque da Ceba ci ha provato a vendergli delle cose però fatto un match del genere è anche un problema per come ho visto la Kargi cioè fa 5 minuti contro questa e non la distrugge che ha affrontato dei bestioni e l'ha messi fuori in uso in un minuto ed era il Velvet cioè l'ultima della divisione in questo momento cioè Suola almeno quando ha fatto i match con i big men con le big women vedi con ELA Rosa ha dovuto fare 40 volte il suo elbow perché dice oh non va giù proviamo questo fa le stesse cose con tutti che ci possiamo fare brutto e poi il main event di Rampage abbiamo avuto il match con Billy Gunn e Darby Allin esatto no no sì giusto avevamo con i Bucks nel opening c'è stato Darby Allin contro uno contro Billy Gunn esatto Darby Allin contro Billy Gunn due coffin drop che gioia che gioia per gli occhi che gioia vedi vedi in quel caso lì Darby Allin cambio lo stile del match siccome Billy Gunn è il doppio e vendo che tutto il match mi sbatte da una parte all'altra due finish e vivendo pure che ci sono le costole incriccate da MJF perché quello è stato anche ma nel match il booking è stato è il doppio lo butta da una parte all'altra non basta un coffin drop quindi Darby Allin deve farne due perché pensa non mi basta e così si fa un match con un big man contro uno piccolino cambia a seconda di cosa ti rovi poi Billy Gunn uno mi può dire Billy Gunn non conta niente era infortunato nella logica del match che è iniziato era Billy Gunn lo tira addosso tutti gli angoli poi Darby Allin un giorno si ammazza con quel selling secondo me a un certo punto bisogna anche che smetta ma figurati che gli frega lui non ha paura di morire l'ha detto cosa succede purtroppo quando l'ha lanciato al paletto ha tentato di andare di schiena per cellare che l'avesse preso l'angolo no Darby ti ha lanciato male nothing's over to your underground già Luca ce l'ha scritto ce l'ha tatuato l'ha lanciato in un angolo corto per non prendere il paletto dietro e lui voleva col corpo andare il più possibile a prenderlo di schiena per far venderla Darby va bene così è matto è troppo è mitico io credo che ci vorrebbero più Darby Allin in varie in bucina se tu vuoi capito settimana prossima più Darby Allin e meno Red Velvet che fanno tipo le spear che ne so a Nia Jax esatto mettiamo più Darby Allin e meno Red Velvet che tanto date più minuti a Darby il promo i video che fa potete provare a fare Red Velvet e fare la spear a Roman Reigns e vedere se gliela vende Roma non lo so guarda se lo metto Roma si scazza chi ha dall'arbitro fine match questa ci prova settimana prossima settimana prossima abbiamo a Rampage edizione che si chiamerà AW Rampage Black Friday ok va bene un match da Black Friday ho visto no Eddie Kingston contro Daniel Garcia dove ci sarà una svenita di mazzate probabilmente secondo me vince Garcia ho quel sentimento di vincere lui no penso vincere che cavolo almeno a Rampage va bene tutto però dipende un po' cosa vogliono fare con Garcia perché secondo me qualcosa in idea ce l'hanno si sono un po' fermati ma potrebbero dargli qualcosa perché Eddie no vince Eddie adesso deve vincere dipende dove vogliono mandare Eddie poi come idea cioè cosa vogliono fare io ho l'opinione mia è che non sia finita ancora con Punk del tutto credo pure che Eddie adesso viene da troppe sconfitte una vittoria la deve fare anche abbastanza bella secondo me perché va bene potresti fare NJF che lo costringe a rilottare con Punk e con lui che alla fine ti dice non mi ha costretto l'ho voluto io perché voglio batterti e piuttosto mi faccio aiutare da NJF vediamo non lo so per la King non lo aiutare nel senso di dire NJF che ne so che ne so vado a Tonicane e mi fa fare un match con te perché io piuttosto voglio affrontarti non me ne frega ma lei col diavolo vuol dibatterti perché poi alla fine nei promo gliel'ha sempre detto tu sei il diavolo lo so come sei fatto e Dickinson che alla fine magari sarà col peggio il nemico pur di battere Pipe che non è anche lì un tornille lui disperato che vuol battere Punk eh ma no perché è uscito troppo da Babyface da questo match dal match di Full Gear e non e lo so ma senti Punk contro GF non è il Punk punto e invece per Dynamite invece cosa hanno annunciato di match per la prossima settimana che non mi ricordo vado a vedere un attimo sul sito se annunciano Red Velvet contro Abaddon penso sarà la prima volta che mi fermo no non credo sai non credo sai guarda che Abaddon poi recentemente è migliorata almeno sì dai fa il suo anche come Naila fa il suo se trova il buon avversario si sa anche comportare anche giovane mi sembra anche lei una di quelle uscite dall'initiativa allora abbiamo 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 Brandon contro Colcabana CM Punk contro Cutty Marshall il Lucio Prada Scotty Rhodes e Puck contro Andrade Lidolo Malakai Black e FTR non abbiamo parlato di dei vari problemi ancora io non capisco perché aspettano con Cody sta diventando l'ottavo più over di tutto il match ma ne parlavamo ieri sera tra noi la reazione che stanno ottenendo dal pubblico adesso è esattamente quella che vogliono secondo me quindi sta procedendo secondo i piani secondo me questa cosa poi vediamo quando decideranno diciamo di premere il gridotto ci vuole che va da Tony Cani dice fatto al 4A per il titolo e gli dice a Cody con la pistola puntata vai o basta non credo non credo che arriveremo a quello diciamo mi sa che non arriveremo a quello e poi Thunder Rosa contro Jamie Hayter per il diciamo per i quarti di finale del torneo del torneo TBS tornano i match belli vedi questo dovrebbe essere un buonissimo match effettivamente per esempio Jamie Hayter appena arrivato era meglio dire Velvet ha occhi chiusi per dirti anche poche cose che ha fatto good end come non ne trovi tante al giro va bene va bene questo è quanto per quanto riguarda per quanto riguarda la puntata le puntate anzi chiedo scusa di Dynamite e di Rampage per quanto riguarda per quanto riguarda l'AW di questa di questa settimana ringraziamo anzi ringrazio Alessia Di Donato e ringrazio anche Gianluca Rouge che mi hanno fatto compagnia fino a questo momento tra poco durante il resto di caffè l'ultima parte dedicata alla preview di Sovrato Series saremo io e Mattia Di Noi quindi rimanete con noi fortunati voi esatto grazie è stato un piacerissimo come al solito anche condividere il microfono con Gianluca questa volta quindi non gli ho e l'odio per il Velvet e anche le nostre idee sui Tag Team Latina quindi diciamo che è appunto Griezmann fai un ispira a un muletto e fai che il muletto te la venda magari denti Red Velvet anche tu ok benissimo grazie mille va bene tra poco quindi come detto durante il resto di caffè la parte dedicata la parte dedicata appunto alla preview di Sovrato Series in programma nella notte tra domenica e lunedì a tra pochissimo grazie non so onestamente di cosa parleremo francamente in questa parte di trasmissione anche perché abbiamo più o meno fatto nel By Night una mini preview di Sovrato Series sì esatto Mattia di noi è tornato in collegamento per la parte di Sovrato Series che per la cronaca non stiamo registrando di giovedì non stiamo registrando dopo la puntata di SmackDown per impegni praticamente nostri in più diciamo che abbiamo abbiamo la sensazione che a SmackDown non accadranno grandi cose no magari fanno un faccia a faccia con Roman e Ettore però cioè alla fine non penso che aggiungeranno robe sconvolgenti che possono far veramente discutere sì hanno annunciato cos'è hanno annunciato Shotsy contro Sasha Banks perché ovviamente il team di SmackDown deve litigare quindi abbiamo quello l'unica cosa che diciamo che l'unica cosa che aggiungeranno saranno i due nomi in più però alla fine non penso che questi due nomi magari se li tengono per i pay per view può essere però ripeto allo stesso tempo ti dico anche fare un'analisi di quella cosa lì non ho neanche la sensazione che incideranno poi così tanto sul sul risultato o sulle speculazioni per i match alla fine diciamo che i vincitori dei vari match mi sembrano tutti abbastanza delineati ripeto io sono un pochino più trovo che il match tra Ettore e Reigns sia un po' più incerto degli altri però gli altri mi sembrano tutti abbastanza abbastanza delineati come vincitori per quanto riguarda i nomi extra il team di SmackDown io sono abbastanza convinto che sarà Xayali la quinta poi vabbè eventualmente farò una postilla alla fine di questo segmento prima di chiudere di chiudere il podcast se diranno i nomi praticamente però potrebbero anche tenerseli come sorpresa per i pay per view alla fine almeno dai qualcosa diciamo di misterioso in vista l'ho detto nel by night o loro sanno qualcosa che noi non sappiamo e hanno una sorpresona da farci che ci fa rivalutare il pay per view oppure è un pay per view veramente moscio moscio moscissimo onestamente è uno dei survival series più peggio costruiti da molti anni a questa parte ma perché comunque ci sono diversi problemi che comunque ci portiamo dietro ad anni tipo per esempio il team di Raw adesso lasciamo che hanno cambiato hanno cambiato in corso due elementi però gran parte degli elementi che fanno parte del survival series match maschile erano nell'altro brand praticamente fino a un mese fa quindi ma anche senza contare quello quindi soltamente chi se ne frega dell'attaccamento al brand se un mese fa questi erano nell'altra parte sì ma anche tralasciando l'attaccamento al brand sono proprio mosci quest'anno c'è proprio la costruzione l'hanno fatta praticamente in una settimana perché le altre scorse settimane sono andate avanti con le storyline del brand che per l'amor di dio non mi fa schifo va benissimo però allo stesso tempo non ti rende carico interessante questo preview che tra l'altro secondo me come ho spiegato soffre del fatto che a differenza di altre edizioni dove c'erano dei grossi dream match che avevi voglia di vedere per n motivi quest'anno di dream match pochini azzi zero praticamente zero anche perché comunque per quanto sono convinto che Ettore contro Roman sarà un bel match nessuno dei due ha lo status per farmi dire cazzo questo match devo assolutamente vederlo per dire anche Becky contro Charlotte che comunque è un match che non vediamo da un po' di tempo però l'abbiamo già visto sappiamo comunque a cosa andiamo incontro praticamente premettendo che poi ne parliamo ma di questo match alla fin fine la cosa che incuriosisce di più è il finale perché hanno portato avanti l'intera situazione peraltro sui social in gran parte in modo molto meta quindi non escludo che possano anche farti essendo anche Survivor Series un finale con una sorta di screwjob tipo vince Charlotte e Becky Rosica perché Charlotte è la cocca della compagnia e cose di questo tipo e poi alla fine non fanno niente perché tanto sono in brezza e barati quindi comunque non esce come ti ho detto nel caffè anche pro poi giustamente abbiamo parlato nel by night di questa cosa qua non avrebbe senso perché alla fine uno screwjob uno screwjob ha senso se c'è qualcosa in palio cioè comunque se c'è qualcosa di grosso in palio ha senso che ha senso uno screwjob così con niente in palio esatto lo fai giusto perché lo fai giusto shock value per dire che Charlotte è la cocca della compagnia così beh che ci fa un promo e poi però finisce lì la cosa perché poi non interagiscono perché sono in due brand diversi quindi quindi effettivamente anche pro però anche farlo finire cioè farlo finire in modo pulito e boh non lo so cioè si sono un pochettino il discorso è questo si sono un pochettino trovati questa situazione dell'angle di smackdown dello scambio delle cinture situazione che peraltro si sono creati loro ricordiamolo perché comunque nessuno gli obbligava a fare questo questo angle e poi a livello a livello creativo si sono veramente sparati sui piedi perché poi sono successi casini che tutti sappiamo adesso stanno cercando di rendere una storyline o meglio l'hanno reso una storyline questa cosa vediamo come ne escono però da questa da questa versione perché comunque va tutto anche poi messo nel calderone di come usciamo da questo pay per view relativamente a questa ipotetica lotta tra Raw e Smackdown di cui non frega niente a nessuno alla fine ma che però comunque devono di cui comunque devono tener conto alla fin fine cioè abbiamo sei match tecnicamente può finire 3 a 3 la lotta tra Raw e Smackdown vediamo se effettivamente sarà così vediamo come finirà vediamo come finirà questa faccenda perché allora Priest vince Priest penso vinca si Nakamura Priest penso che vinca allora per me vince Priest poi Team maschile lo vince lo vince Smackdown con McIntyre sì perché McIntyre grande showcase per McIntyre che poi lo si lancia per il titolo vabbè andiamo in dettaglio sui match perché se facciamo così praticamente facciamo già i pronostici sostanzialmente vabbè David Priest contro Nakamura l'abbiamo già detto va detto che questi due non stanno facendo praticamente niente per costruire il match anzi sono i due campioni secondari li mettono contro perché bisogna farlo Priest è due settimane che non si vede che non si vede a Raw Nakamura sta solo giobbando praticamente in questo in questo periodo o giobba o fa coppia con Bugs che però perde i match quindi la fin fine giobba quindi quindi hai questa situazione un po' particolare in cui Nakamura lo stiano proteggendo in maniera in maniera entusiasmante Priest manco si vede perché ha fatto il match ha risolto questa questa mini faida con con il food da Jakovic e poi è sparito per due settimane è andato diciamo era a fare il tour inglese mi sembra però però lui il tour ha finito in anticipo McIntyre invece era rimasto lì però McIntyre era di SmackDown quindi vabbè sì sì infatti è vero che è questo però comunque due settimane che lui non lo so non si vede quindi vediamo cosa è un modo molto bizzarro praticamente di costruire il match vero che sono in due brand diversi però qualche menzione potevano anche farla di questa di questa faccenda è un match è un match che penso sarà anche divertente se gli daranno un pochettino di minuti però anche lì lascia veramente un po' il tempo che trova a questo punto questa situazione Priest penso vinca perché non penso che Nakamura vada a perdere però vediamo abbiamo visto cose anche più strane alla fine chi vince chi perde non fa alcuna differenza in questo caso può vincere uno può vincere l'altro non gliene fare niente a nessuno e non urta nessuno diciamo che con la situazione delle ultime settimane per quanto riguarda Nakamura che tanto sta perdendo abbastanza se perde un match in più non è che gli fa sta grande differenza Priest effettivamente lo stanno proteggendo molto mi sembra strano che comunque vanno a farlo perdere quindi tra i due forse forse la soluzione migliore è far vincere Priest sì Nakamura quello sto vincendo sicuro Priest esatto Orto Merido contro gli Usus titoli match tra i campioni di coppia questo lo vincono gli Archie Bro tu dici che vincono gli Archie Bro io penso che vincono gli Usus invece cioè anche qui alla fin fine non diciamo non fa alcuna differenza tra chi vince e chi perde è vero che però diciamo nelle ultime settimane c'è Orto che continua a dire tu la devi smettere di cagare il cazzo ad altra gente non vorrei che anche questa cosa gli si vada a ritrocciare conto in questo match poi ripeto non porterà nulla probabilmente perché se Riddle a meno che non abbia l'intenzione di spittare Orto e Riddle ma mi sembra che ci sia ancora comunque un po' di sì infatti c'è ancora un pochettino di un pochettino di roba da fare praticamente con questo team sarà un bel match penso questo sì questo penso che sarà un buon buonissimo match a livello di ottato potrebbero vincere gli Usus alla fine vediamo cosa cosa fanno io vado con gli Archibur ok io vado invece con gli Usus in questo in questo tipo di match però alla fine anche lì ripeto chi se ne frega non avrà alcuna influenza sulla storyline quindi quindi no allora ti dico l'unico l'unico modo per cui può avere influenza sulla storyline è più sulla storyline della bloodline col discorso che Roman va a spaccare il cazzo agli Usus che ha perso sì ma se poi alla fine non splittano che serve cioè non è quello cioè puoi fare puoi continuare puoi continuare con Roman Reigns che comunque maltratta gli Usus ogni due o tre settimane ma tanto poi questi rimangono attaccati quindi quante volte puoi anche farlo perché te l'ho spiegato perché lì il discorso è che prima o poi arriverà qualcuno che dirà agli Usus oh ma che cazzo state facendo cioè il discorso è che comunque prima o poi bisogna arrivare a quello se però questa persona si fa vedere per un anno e mezzo cosa fai per un anno e mezzo va avanti così ogni tre settimane eh no lo so no quello lo so è quello il problema il problema cioè o veramente o veramente si fa vedere questa persona e quindi poi comincia la costruzione per la resta e mezzo di quest'anno o se si ne parla tra un anno devi tirarla avanti ancora un anno e mezzo con questa cosa anzi un anno circa visto che visto che magari poi apparirà anche prima vediamo cosa vediamo cosa fanno Big E contro Roman Reigns ce lo terrei per la fine facciamo i due i due 5 contro 5 Team di Raw contro Team di Smackdown ovvero Bianca Valeria Ripley Liv Morgan Carmela e Quinzelina contro Sasha Banks Shayna Bessler Shotzi Natalia è un'avversaria che deve che deve debuttare questo lo vince il team femminile di Raw anche secondo me anche secondo me sì perché il team di Smackdown è pieno di gente che si sta sul cazzo non che quello di Raw non lo sia però ha più senso che vinca quello di Raw con quelle di Smackdown che sbarellano e si si insultano tra di loro è molto più possibile effettivamente che il team di Smackdown vada a litigare per i fatti suoi che non vada qualcuno a rompere le scatole a quello di Raw tipo faccio un esempio Dudrop con Bianca Belair che va no beh Dudrop può andare a rompere il cazzo però gli ha detto ci vediamo dopo Supervisiris quindi effettivamente non ha senso che lei vada a rompere le scatole al pay per view alla fin fine però è un ill potrebbe mentire sì però sotto quel è vero è vero sotto quell'aspetto hai comunque ragione nel senso che comunque penso che non ci sarà non cambierà un cazzo cioè non non penso che faranno qualcosa di diverso che interferirà qualcuno però possono anche cioè per una o due eliminazioni per un'eliminazione lo puoi fare sì non devi esagerare perché poi magari puoi anche fare lo stesso discorso per il match per il match maschile a livello di interferenza cioè non devi esagerare con l'interferenza durante perché se fai hai sei match se li fai tutti con l'interferenza veramente non lo siamo vivi da questa faccia ci diventa veramente molto ripetitivo esatto questo qua comunque sì penso che qui può vincere il team di Ro effettivamente cioè per dire Sasha che sarà la prossima con Charlotte non penso che abbia bisogno di non lo so se è la prossima non lo so se è la prossima chi può essere allora dipende allora sai cosa vi spiego dipende tutto da come gestiscono la cosa con Shozzi perché potrebbero benissimo perché la prossima per Charlotte anche a livello di cosa hanno fatto settimana scorsa potrebbero fare per i mesi di dicembre dei one penso che arriveranno a Sasha almeno però per dirti per dicembre potrebbero anche mettere continuare Shozzi Sasha e fare Tony contro Charlotte visto che comunque Charlotte ha umiliato Tony potrebbe essere che il piano sia quello di fare Tony contro Charlotte contando quello che è successo settimana scorsa si la sensazione è che comunque entrambe sia Tony che Shozzi siano purtroppo per loro abbastanza delle vittime sacrificali in questo periodo cioè comunque dei riempitivi in vista poi del grande match mettiamola così tra Charlotte e Sasha perché comunque sono i due volti di punta praticamente del brand dopo un draft quanto meno Charlotte e Sasha quindi andranno contro alla fin fine nell'attesa di vedere cosa accadrà con Bayley se Bayley tornerà per WrestleMania o per la Royal Rumble se è pronta per tornerà per la Royal Rumble allora eventualmente va contata anche lei e poi c'è la questione c'è la questione Alexa Bliss Alexa Bliss però è di Raw mi sembra è stata draftata mi sembra no non è stata draftata Alexa non è stata draftata sì mi sembra che sia stata draftata durante il draft mi sembra vado a controllare perché non ricordo non ricordo quello che so ma sì mi sembra che sia stata draftata durante il durante praticamente il draft forse c'è ragione vado a vedere vado a vedere vado a vedere chi è stata chi è stata scelta e quando sì perché no forse era stata scelta lei mi sembra che era stata scelta non erano state scelte Eva Asuka sì è stata scelta nel quinto giro della seconda serata ed è di Raw quindi lei deve andarsi a meno che poi non cambiano perché comunque possono sempre cambiare dalla fin fine perché comunque chi se ne frega beh però sai già che tecnicamente lei sa che andrà a Raw esattamente cioè se li vince se può scegliere effettivamente lei magari può andare a SmackDown certo quello sicuramente perché l'anno scorso hanno scelto sì vero è solo il primo anno che hanno detto che non si poteva scegliere se non sbaglio no credo che avevano sempre sempre scelto no c'è stato il primo anno del brand split era se vince uno di SmackDown va contro quello di SmackDown se vince uno di Raw va contro quello di Raw il primo anno del brand split ok non ricordo poi l'hanno cambiata poi l'hanno cambiato vabbè sì se la Blitz se la Blitz vince la Royal Rumble può benissimo scegliere effettivamente beh l'anno scorso addirittura anzi due anni fa non l'anno scorso due anni fa la campionessa la vince la Royal Rumble scelta il titolo di NXT addirittura che è Charles Flair quindi possono effettivamente c'è dubito che quest'anno il titolo di NXT sia un'opzione ma già l'anno scorso non lo era per i vincitori e per le vincitrici della Royal Rumble comunque sì l'XA Blitz è stata scelta tecnicamente nel roster di Raw però sì si può cambiare effettivamente con la vittoria della Royal Rumble vediamo se effettivamente sarà così e se se lei effettivamente sarà la favorita per la vittoria praticamente di questo di questo di questo pay per view perché in questo momento in questo momento gli unici due nomi che mi vengono in mente sono l'XA Blitz e come si chiamano e Bailey esatto se torna Bailey altri nomi da lanciare non me ne vengono in mente no neanche a me per loro meno che non vuoi dare una vittoria che ti fa una carriera tipo Bianca Belera lo scorso anno Bianca Belera lo scorso anno poteva e diciamo ci ha fatto una carriera praticamente perché comunque però non saprei ha avuto il lancio della carriera del lancio della sua permanenza del Mer Rossa con la vittoria della vittoria della Royal Rumble di fatto anche se mi ha già debutato nel Mer Rossa tra mesi quest'anno non saprei a chi darla sinceramente una cosa del genere cioè per dire non saprei neanche chi può vincerla a degli uomini a parte Brock Lesnar in questo momento cioè l'unico 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 che mi viene in mente è Brock Lesnar in questo momento che può vincere degli uomini non mi viene in mente neanche io anche perché io puntavo tanto su Keith Lee per la Royal Rumble e sappiamo tutti com'è finita purtroppo per quanto riguarda il buon Keith Lee peccato quello maschile invece di match 5 contro 5 ah beh sì l'abbiamo già detto McIntyre sì McIntyre che fa lo showcase esatto è il Drew McIntyre show primo eliminato Corbin primo eliminato Corbin sicuro è un match fatto apposta per per rendere McIntyre un eroe chi può essere il quinto del team di SmackDown secondo te allora ci abbiamo provato a farlo e non mi veniva in mente allora o metti Manny che però Manny non lo so ma perché dovrebbero perché dovrebbero mettere cosa infatti perché dovrebbero mettere dall'alto oddio hai messo Austin Theory a Raw quando avevi quando avevi Rey Mysterio quindi effettivamente se andiamo a vedere il peso dei due lottatori l'ottagonista della showcase di WWE eh sì esatto io spero io spero che non mettano la parte dopo che lui vince il titolo a WrestleMania 22 perché non è andata particolarmente bene per Mysterio quella parte dove dove jobbava praticamente ogni singola settimana però vediamo cosa vediamo cosa cosa fanno si può parlare poi di WWE 2K anche se in realtà non è che c'è molto da dire su WWE 2K no è confermato è confermato alla GMOD questo è il possiamo parlare un attimo è confermato alla GMOD il ritorno della GMOD fanno una My Career o una sorta di showcase diciamo sia per il singolo cioè la My Career si chiamerà My Rise e l'altra sarà per le fazioni cioè tu puoi creare la tua stable praticamente si chiamerà My Faction e ha la sua storia a parte la showcase sarà dedicata a Rey Mysterio ci sarà anche il WWE Universe e il resto bene o male mi sembra abbastanza quello che c'era prima cioè hanno hanno detto ci saranno i nuovi controlli un nuovo sistema di gioco si graficamente mi sembra che mi hanno cambiato alcune immagini non alcune immagini scusa il match in sé la luminosità è molto buona cioè comunque effettivamente hanno molto hanno molto giocato sulla luminosità cioè le immagini del WWE sono molto più luminose le luci sorrini sono molto più simili a quello che vedi in televisione dalle immagini che hanno mostrato sembra che mi hanno cambiato diciamo l'immagine dell'art cam cioè un'immagine molto più vicina rispetto ripeto prima vedete che puoi regolarla probabilmente come questo succede però le immagini che mostrano sembrano hai presente quando Smackdown veniva ripreso non con l'art camera ma con la telecamera sulla gru ecco bene o male mi ricorda quello dalle prime immagini che ci hanno mostrato è una versione ovviamente quello che hanno mostrato le immagini che hanno mostrato nel trailer sono evidentemente neanche di una beta di un'alpha probabilmente anzi forse addirittura qualche processo indietro alcune immagini sono buone altre molto meno l'ingresso di McIntyre secondo me non è buono a livello grafico ma probabilmente è molto meno definito già quello di Edge è già meglio effettivamente poi c'è un po' anche di i capelli mi sembrano i soliti per alcuni mi sembrano la fisica dei capelli ti sembra sempre la stessa bene o male no allora per alcuni sembrano anche fatti abbastanza bene per altri invece si vede una fisica di merda come al solito quindi boh perché per dire nell'entrata di Roma non sembrano male i capelli poi vedi la scena dove ci sono la Gonzales e altri due che picchiano una ragazza e lì vedi una fisica orribile mi piace molto è un dettaglio stupido però mi piace molto che nei menu non mettano più l'immagine del proprio della versione 3D dei rest ma ci sono le foto sei noti nel MyGM ci sono le foto se guardi ed è è una piccolezza però comunque contando che alcune versioni diciamo dei dotatori 3D in passato non erano minimamente somiglianti non è un male probabilmente a quel punto tra l'altro visto che ci siamo diciamolo già Max ci ha già precettato stiamo pensando se la MyGM si può fare online esatto ci stiamo pensando bisogna vedere anche perché faccio un esempio faccio un esempio se è cross platform per esempio cioè se si può giocare Xbox contro contro Playstation io ho appena comprato l'Xbox X probabilmente prenderò la versione Xbox anche se dubito che sarà dubito che il gioco uscirà per next gen non lo fa se escono per next gen non lo so però se il gioco può essere comunque eletto dalle console dalle console e avrà anche un piccolo upscaling grafico però sì se è cross gen se si può fare praticamente cross platform in multiplayer tanto di guadagnato perché così io prendo la versione prendo la versione diciamo che se se puoi fare cross platform probabilmente vuol dire anche che il diciamo la community creation diventerà cross platform che sarebbe comunque ottimo perché comunque puoi unire le creazioni da Playstation a Xbox faccio un altro esempio MLB The Show che è uscito quest'anno per versione PS4 PS5 Xbox One e Xbox Series X ed è un titolo della Sony è cross platform a livello di gioco e tra l'altro il community creation è comune sia per Playstation che per Xbox va detto non è un gioco 2K quindi bisogna vedere da quel punto di vista come funziona dovrei vedere su NBA 2K se NBA 2K quest'anno i roster si trovano cioè i roster i slider e tutto il resto sono uniti cioè si trovano sia sulla versione Xbox che è sulla versione Playstation o se sono separati perché se sono separati ovviamente quello che c'è su Playstation trovi su Playstation quello su Xbox trovi su Xbox e le due piattaforme non possono comunicare quindi vediamo un pochettino comunque sì se effettivamente io permettendo che il gioco probabilmente non lo prendo il day one aspetto un paio di recensioni prima di prima di vedere no anch'io io non lo prendo dopo essere stato ampiamente scottato con la versione 2K20 aspetto un attimino prima di prendere il gioco qualche giorno tempo di leggere qualche recensione e poi si può pensare eventualmente diciamo a ripartire con il GM vediamo quanti dindi abbiamo con i Patreon e ce lo prendiamo con i dindi del Patreon non lo sto scherzando io lo farei no io lo farei anche se non fosse che sul sai qual è il problema del Patreon purtroppo è che non puoi prendere parte diciamo di quello che hai o prendi tutto una volta cioè per dire se hai 1000 euro praticamente sul Patreon non puoi dire purtroppo ne prendo 100 cioè ne scarico 100 sulla carta di credito e lascio gli altri lì da poter fare un secondo tempo devi scaricarli tutti quindi è un po' scomodo diciamo in questo momento però si può fare si può fare comunque qualcosa di un pochettino diverso per prendere le copie del videogioco quando poi uscirà naturalmente dobbiamo anche capire quando è il paper bin in Inghilterra e quanto costa perché in teoria settembre 2022 credo comunque sì queste sono le principali principali novità poi se ne sarà di più a gennaio hanno confermato che il gioco uscirà a marzo almeno l'intenzione è farlo uscire a marzo poi vediamo vediamo naturalmente se effettivamente sarà così mi sa che potrebbe essere poi la come si dice la la release date ufficiale anche per gli anni prossimi che non è una cattiva idea ha senso ha senso che sia effettivamente intorno a Wrestlemania cioè comunque per loro avere praticamente il lancio del videogioco contemporaneamente nel periodo più caldo dell'anno ha anche senso perché comunque hai gli occhi del mondo o comunque gli occhi degli appassionati sono tutti verso di te ha senso che comunque contemporaneamente a quello tu lanci anche il videogioco sì oltre al fatto aggiungi anche il fatto che non è solo quello ma anche il fatto che comunque essendo la season essendo Wrestlemania la season premiere è molto meglio fare un gioco season finale dovessi dire onestamente sì la season finale la season finale è molto meglio avere un gioco che ti esce nel periodo in cui ti riniziano le cose piuttosto che quello dove finisce per quanto allo stesso tempo allo stesso tempo si rischia di avere già il gioco vecchio quando esce certo beh se guardi già se guardi già con i licenziamenti e tutto mi sa che ci saranno ancora tanti ci saranno tanti cambiamenti da quell'uscita del gioco a parte il discorso di licenziamenti a parte il discorso di licenziamenti che comunque ovviamente influirà sul gioco e beh certo ovviamente no però farlo uscire cioè uno dei problemi di WWE 2K è che l'abbiamo detto in più di un'occasione anche la possibilità di aggiornare veramente il gioco sì con magari i prester che cambiano pettinatura o spandano la tire cambiano in cosa è bassissimo esatto perché WWE non ti permette di farlo quindi o fanno o magari la 2K fa come fa con l'NBA che ogni tot ti dà degli aggiornamenti gratuiti dove magari ti cambia la fisionomia dei personaggi i capelli e così via perché con l'NBA lo fanno sì oppure dovresti farlo da solo se te lo devi fare da solo devi aspettare la community creation della gente che ti crea il personaggio ad hoc solo che è sempre una merda sì sì per ovvi motivi non può essere mai come direttamente l'accesso originale quello sicuro infatti una delle cose che dovrebbero probabilmente fare è diciamo un'uscita biennale praticamente questo gioco un po' come UFC UFC della EA esce ogni due anni e non esce ogni anno e poi aggiorna inseriscono dei nuovi fighter e poi aggiornano praticamente tutto con il tempo debito chiaro il videogioco UFC non ha questi grandi numeri di venita alla fin fine però il modello funziona effettivamente perché comunque sono anche resi conto perché ha provato mi sembra a farlo uscire una volta ogni anno per un certo periodo e poi dopo un po' hanno visto che non funzionava e hanno virato diciamo all'uscita biennale tra l'altro coincisa poi con il cambio perché comunque in origine la licenza UFC era della THQ e poi è finita la EA e adesso si occupa direttamente la EA con EA Sports tra l'altro parlando di WP2K se c'è un modello una cosa tra virgolette positiva che hanno annunciato è che praticamente stanno utilizzando per i modelli dei wrestler stanno utilizzando praticamente lo stesso modello lo stesso modo i modelli di scansione eccetera eccetera di NBA 2K ed effettivamente da quel punto di vista specialmente la versione next gen di NBA 2K che è uscita quest'anno è molto bella a livello grafico poi chiaro bisogna poi combinare tutto con la giocabilità ma se tu li vedi ma comunque anche cioè principalmente gli uomini perché le donne bisogna ancora vedere per quanto Bailey non sembra malissimo i problemi principali delle donne sono le fisiche di capelli la fisica di capelli esatto però per dire Goldberg Roman ed Edge sono fighi sembra fatti bene Drew meno sei visto Drew poi va detto lì abbiamo anche le cutscene alcune cutscene se guardi le scene di ingresso se guardi alcune hanno un framerate buono altre hanno un framerate molto più ballerino quindi diciamo che siamo ancora probabilmente in una versione embrionale del tutto se questa è la versione definitiva non si è messi bene perché ci sono notevoli differenze di framerate tra un'entrata e poi anche a livello di dettaglio grafico l'entrata di McIntyre graficamente non è a livello di quella di Edge secondo me non è bella dal punto di vista dal punto di vista puramente grafico comunque tornando a noi tornando vediamo attendiamo notizie per quanto riguarda WWE 2K l'uscita ricordiamo è prevista nel mese di marzo stavamo parlando dei due Super Bowl Series Match quello maschile e quello femminile quello femminile secondo te lo vince il team di Raw quello maschile lo vince SmackDown quindi uno a uno da quel punto di vista uno a uno ok c'è uno a uno SmackDown da quel punto di vista sono in parità Becky Lynch contro Charlotte molto interessante vedere come se ne esce a livello di risultato di puro di puro risultato svolgimento vediamo come se la giocano alla fin fine permettendo che molte delle dichiarazioni che stanno facendo Becky e Charlotte nelle interviste mi sembrano le classiche interviste work shoot per creare un pochettino di aspettativa per il match cioè non sto dicendo che non ci sia niente di vero sotto che quando le dice che non si parlano quando dicono che comunque ci sono problemi tra le due parti probabilmente qualcosa di vero c'è però mi sembra anche che siano un pochettino visto quello che è successo con l'angle di SmackDown probabilmente ci stanno anche un pochettino marciando sopra perché comunque hanno il match da vendere quindi si è arrivati a questo vediamo che succede domenica non escludo che vinca Charlotte ma vince Charlotte allora contando che ho detto che vincono Priest e Coso e gli Archibro ti direi che qua vince Charlotte anche perché si dipende se vogliono tenere effettivamente in parità Raw e SmackDown perché perché col conto tuo praticamente abbiamo la vittoria di Priest la vittoria di Orton e Riddle no? tu avevi detto che vincono Orton e Riddle Big E contro Roman Reigns vince Big E se non è vincetto esatto però se uno di due messi su Mario Series lo vince il team di Raw automaticamente sei già 4 a 2 quindi per te vince il team di Raw alla fin fine della sera sì a questo punto 4 vittorie di Raw e 2 di SmackDown secondo me guardando i match allora io vado con team maschile team maschile vince SmackDown team femminile lo vince Raw Charlotte vince il match di il champion versus champion Roman Reigns vince il Roman Reigns vince il il champion versus champion con i campioni del mondo gli Usus vincono il match per quanto riguarda i titoli di coppia e Damian Priest vince il match con i titoli secondari quindi è 4 a 2 però per me per SmackDown quindi sì alla fin fine divergiamo di poco cioè il punteggio è lo stesso però per me vince SmackDown e per te vince per te vincerò alla fin fine vediamo vediamo cosa fanno ripeto alla fine non gliene frega niente a nessuno di questa anche perché non c'è niente in palio quindi della supermazia di Brandon non gliene frega una mazza a nessuno perché tanto metà delle persone coinvolte era nell'altro show fino al mese prima quindi non c'è neanche lealtà non lo stanno neanche costruendo perché a parte gli Usos tanto mi fa ridere che continuano a dire è l'unica notte dell'anno in cui i Raw e i Sveglian si affrontano gli Usos sono apparsi a Raw giusto lunedì senza motivo alla fin fine quindi mi fa anche molto ridere ma ce ne saranno sicuramente altri di gente di un brand che poi apparirà nell'altro quindi alla fine chi se ne frega anche di quello cioè è uno show che ha bisogno di una a livello concettuale ha bisogno di una drastica modifica perché comunque la lotta tra i brand in questo momento fatta così non serve assolutamente a niente quindi se vuoi rendere interessante il Survivor Series devi inventarti qualcosa nel senso puoi fare i 5 contro 5 tra Raw e SmackDown però devi mettere qualcosa in palio l'idea che aveva avuto Woods in quel promo di Twitter con i due praticamente Fatal 5-Way tra il team vincente cioè con il team vincente e il team sconfitto uno si gioca i posti dal 26 al 30 della Rumble e l'altro quelli dall'1 al 5 non è brutta onestamente come idea però non mi sembra che aveva l'intenzione di farla a meno che non sia una cosa che poi tireranno fuori dopo il pay per view come punizione però al momento non sembra vogliono farla questa cosa però quantomeno metti qualcosa in palio cioè metti qualcosa in palio è importante quantomeno per quanto riguarda Survivor Series ma in questo momento non c'è niente in palio quindi se non c'è niente in palio non ci sono conseguenze non ci sono titoli in palio perché dovrebbe importarmi di un evento di questo tipo e infatti non gli importa niente a nessuno di questo evento anche per dire l'ultimo aggiornamento che avevamo una settimana fa a Brooklyn praticamente davano intorno agli 8000 biglietti venduti che per il bar è un po' pochino onestamente non sembra sarà sold out questo show e per un Survivor Series e per un Survivor Series è un po' un peccato alla fin fine perché comunque hanno sempre riempito Barclays ed effettivamente è abbastanza strano magari lo riempiono all'ultimo però sì c'è il fatto che comunque il fatto che comunque l'hype per questo pay per view sia basso sia sotto zero praticamente non basso sia sotto zero è innegabile esattamente ma il discorso l'abbiamo fatto in più di un'occasione e qua bisogna cambiare il concept di questo pay per view e l'idea che ho è che quest'anno non abbiano neanche loro voglia di farlo non si sono impegnati minimamente no l'idea che mi hanno dato è anche che loro stessi non gliene fregava un cazzo farlo perché se vai a vedere tutto tutto quello che sta succedendo come l'han costruito sembra veramente che ci sono svegliati questa settimana e dicono oh cazzo ma dove abbiamo sta roba qua vabbè dai buttaci dentro due cose due settimane fa hanno fatto una roba a Smackdown non hanno praticamente fatto nulla la settimana scorsa e quindi boh vediamo facciamo passare questa questa nottata praticamente di wrestling e poi e poi praticamente si riparte in vista in vista del primo gennaio in vista del primo gennaio che sarà il primo pay per view del 2022 per quanto riguarda per quanto riguarda la WWE con Day One da Atlanta le faide le stanno già costruendo vediamo se sono riempitivi prima di per per riempire il mese il mese che ci porterà diciamo la fine dell'anno perché le ultime due settimane diciamo che debutteranno praticamente via perché comunque Smackdown avvaino dal 24 a 31 e il 24 a 31 di dicembre ovviamente 24 a 31 di dicembre gli ascolti saranno ovviamente molto più bassi rispetto per lo solito quindi quelle due puntate anche se una sarà il gomma di fatto per i pay per view del giorno dopo diciamo che le butteranno un po' via vediamo se sono riempitivi o se invece le faide che stiamo vedendo adesso saranno poi quelle che troveremo praticamente il primo gennaio è possibile che sia così vediamo come come si esce praticamente da questo show ripeto è una survival series è brutto da dire è veramente brutto da dire però è un po' una rottura di scatole in questo in questo momento un pay per view che hanno che hanno da fare e che vediamo 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 come come svolgono vediamo come come portano avanti sarei molto sorpreso se questo pay per view dovrasse più di tre ore per esempio dovessi dire secondo me cioè speriamo che in meno di tre ore la portiamo a casa praticamente la pagnotta in questa nella nottata di domenica anche perché ha i sei match mi sembra a meno che diciamo a meno che uno dei i match siano di lunghezza interminabile ma devi impegnarti molto mi sa che sarei molto sorpreso se andasse oltre le tre ore praticamente sì anch'io però vediamo vediamo perché comunque alla fine andiamo a dormire prima esattamente pensando che ormai i pay per view hanno una durata biblica esatto iniziano alle due più che altro sì esatto iniziano alle due il problema è tutto l'ultimo pay per view l'ultimo pay per view comunque è durato tra ore e mezzo è durato l'ultimo cos'era cos'era l'ultimo pay per view non mi ricordo più non mi viene il nome adesso Extreme Rules era no? sì l'ultimo pay per view che abbiamo visto che abbiamo visto dalla WWE e sul net ah no Crown Jewel però era era già più tollerabile però ecco Extreme Rules è durato 2 ore e 47 effettivamente SummerSlam era durato 4 ore SummerSlam era durato 4 ore però era SummerSlam Man in the Bank era durato 3 ore e un quarto per esempio Crown Jewel è durato quasi 3 ore e 50 quasi 4 ore però ripeto orario molto molto più tollerabile questo vediamo se è un Big Four e allora devono farlo durare tanto o se invece visto che hanno solamente 6 match però hanno solo 6 match annunciati sai se dura 4 ore più o più con 6 match sarebbe veramente veramente il conto vediamo vediamo cosa succederà nella notte tra domenica e lunedì e allora vi avevamo detto che ci sarebbe stata forse una postilla in caso di novità dopo dopo la registrazione della preview di SmackDown esatto no della preview di Survivor Series più che altro che abbiamo fatto abbiamo registrato giovedì c'è qualche novità ci sono i due nomi che si sono uniti praticamente al team ai team di SmackDown quello maschile e quello femminile non grandissimi nomi francamente pensare di detto o hanno veramente qualcosa in mano di grosso no non hanno niente no no io intendo per la fine del pay per view la roba in mano di grosso vediamo è una sorpresa grossa alla fine del pay per view che però come sappiamo come abbiamo già detto può essere solo una e dubito che ci sia però dicevo no più che altro Tony è ancora ancora un nome grosso Shams è proprio lì solo esclusivamente per far partire la faida tra tra Cesaro e Ridge Holland sì e tra l'altro io non so non so se hai avuto anche tu questo vibe guardando guardando il tutto secondo me sta rifacendo la storyline di Mickie James con con Ridge Holland e Shams cioè adesso gli fa lui è il mio idolo cioè il mio diciamo con lui sono in wrestling grazie grazie a te poi tra qualche mese pam gli si rivolta contro e vanno poi in faida per lanciare per lanciare Ridge Holland ho questa sensazione ci starebbe ci starebbe effettivamente adesso gli fai fare un po' di mesi da tech team come fu con 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 Trish Stratus e Mickie James sì non erano tecnicamente i tech team però comunque gli ha fatto praticamente da body le fece anzi Mickie da bodyguard a Trish Stratus per diversi mesi poi si è rivolto contro e vinse il titolo poi a a Wrestlemania 22 credo a Chicago ci può stare se puntano se puntano come sembra su Ridge Holland probabilmente faranno così esattamente quindi Scemus chiedo scusa è nel team nel team di nel team di SmackDown per quanto riguarda Survivor Series uno dei due match più lunghi della serata in una serata che di wrestling ha avuto veramente pochino in generale perché è stato un bel match quello quello sì e anche il match tra Shozzi e Sasho quello mi ha fatto incazzare ti ha fatto incazzare per il taglio della regia taglio assurdo quando hanno fatto il recap della faida ho trovato assurdo che questi qua adesso vendano come Shozzi che si è rivoltata contro Sasha a cazzo di cane quando in realtà se tu hai visto le puntate sai che Shozzi si è incazzata lo sai che però la WWE fa quello ma lo farebbe anche la AEW lo farebbe anche chiunque perché comunque se la storia è Shozzi deve essere la heel dobbiamo comunque renderla la heel perché se tu fai vedere quello che è successo corri il rischio praticamente di farla passare da meno in meno heel fai la scena finale con Shozzi che rispetta la stipulazione e Sasha che gli fa la backstabber che gli fa la backstabber eh sì hai ragione e gli dici ma chi è la babyface e chi è la heel qua non lo so perché alla fine se vai a vedere il segmento finale Shozzi pur avendo pur non rispettando Sasha e tutto il resto alla fine ha rispettato il patto del chiunque vinca deve stringere la chi vince vince e poi vi dovete stringere la mano sì quindi diciamo che vabbè vediamo sono io capisco perfettamente il punto di vista no è che trovo no più che altro trovo allora è il solito discorso che faccio ogni tanto con la WWE che molte volte non anche quando cercano di tenere una continuity in quello che fanno ci sono quei momenti in cui tu che guardi tutte le puntate dello show ti senti preso per il culo perché io che ho guardato tutte le puntate dello show so bene che il motivo per cui Shozzi si è rivoltata contro Sasha in quel match è perché Sasha ha fatto un'interferenza si è inserita nel match ha fatto un'interferenza sbagliata e Shozzi l'ha pagata nel recap di ieri ti fanno sembrare come se Shozzi ha perso con Charlotte Sasha girava e Sasha era lì perché boh stava cercando le chiavi della macchina e Shozzi si è presa e si è incazzata con lei capisci che ha fastidio da uno che guarda tutte le puntate capisco perfettamente sono pienamente d'accordo però sai che comunque la WB fa così hanno trovato diciamo il modo loro praticamente per rendere come posso dire per rendere la storyline praticamente più lineare nel senso per i loro scopi quantomeno non tanto a livello di logica ovviamente è un altro discorso si poi ripeto non ho capito la parte finale con Sasha che colpisce alle spalle Shozzi e lei è la Hila in quel momento quindi boh vabbè vabbè lascia stare cioè lascia stare tornando ad altre cose di Smackdown che hanno influenze su Revosiris l'annuncio che ci sarà la Battle Royale la 25 e che parterre tra l'altro per la Battle Royale io leggerei i nomi i nomi dei partecipanti sono già usciti tutti eh sì c'era la grafica quindi quindi sì abbiamo tutti abbiamo tutti i partecipanti praticamente di questa Battle Royale che è fatta solo ed esclusivamente perché è il 25 perché è il 25esimo anniversario del del debutto di The Rock e allora in omaggio a The Rock fanno questa Battle Royale vabbè lasciamo lasciamo stare praticamente su questo su questa qualità diciamo dell'omaggio però abbiamo questa abbiamo questa Battle Royale quindi le partecipanti sono AJ Styles Angel Angelo Dawkins Apollo Cruz Sanric Alexander Cesaro che passa dall'essere schienato durante il match di SmackDown a far parte di questa roba Chad Gable il comandante a Ziz Dolph Ziggler Drew Gulak Eric Umberto Ivar Jinder Mahal Mansour Montetford Troncos Otis Art Roof Ricochet Robert Trude Sami Zayn Shanky Shelton Benjamin e T-Bar tutti quelli che hanno trovato nel catering evidentemente li hanno messi praticamente in questa in questa battle royale Troncos per la cronaca è HOMOS per chi non dovesse diciamo essere al corrente di questa grande gag Zayn primo o ultimo eliminato del team di SmackDown? no 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 eh no della Battle Royale ah della Battle Royale tu dici può essere benissimo il primo effettivamente pensandoci contando la storia che hanno fatto con la Deville che la Deville ha detto non sei nel match ma sei in un prestigiosissimo match dove puoi diventare esatto l'erede di The Rock sì certo come no cioè lui sicuramente lui o arriva alla fine e poi viene eliminato come un fesso dal babyface di turno no secondo me questa Battle Royale ha un nome solo che è Troncos secondo me Troncos la vince dici che la vince HOMOS la vince Troncos sì anche perché più che altro ho un grosso terrore di Troncos che vola fuori ring quindi non vorrei che sia la regola la regola Iron Sheik per chi è presente la Battle Royale di RSC 2017 che vince Iron Sheik perché non poteva cadere oltre la terza corda perché se no si sarebbe rotto tutto il rompibile no scherzi a parte non non so ah io andrei con Troncos francamente andrei con HOMOS però altri nomi che possano vincerla boh non non saprei onestamente dei partecipanti quantomeno a questa battle royale AJ Styles volendo però anche perché Babyface ce ne siamo moltissimi tutto sommato in questo in questo match andiamo a vedere è un match diciamo è un match che alla fin fine lascia diciamo come posso dire lascia un po' il tempo che trova però questo abbiamo questo e questo ci teniamo il resto della puntata di SmackDown è stato è stato tutti i match da un minuto e mezzo tutti peraltro quasi tutti finiti per roll up a meno due finiti per roll up il terzo finito con una mossa risolutiva giusto per impiegare un po' di tempo alla fin fine mi sembra perché comunque è stata diciamo dal punto di vista dell'ottato è stata una puntata abbastanza scadente l'altro grande è sai l'altra cosa il tourway è stato bello poi il resto si sai l'altra cosa l'altra cosa che mi ha fatto ridere della puntata visto che c'è da Sasha Banks c'è stata una frase di Michael Cole al commento che non so se tu hai notato quando parlava del perché di Sasha Banks era il capitano praticamente del team di SmackDown e Michael Cole ha detto una roba tipo c'è un motivo per cui Sasha Banks è il capitano del team di SmackDown perché lei è praticamente è quella che ha fatto più eliminazioni praticamente da quando ci sono i Survivor Series i Survivor Series Smash femminili l'ho sentita l'ho sentita dietro però una persona ha detto è la seconda perché è praticamente quella che l'ha fatta di più tranne una e io Nia Jax no aspetta sono stato lì per un secondo e per un secondo e ho detto chi cazzo è sta qui cioè è Mickey James Trish Stratus cioè una che o Mickey James o comunque Nia Jax qualcuna che qualcuna che non è più della compagnia no è Natalia è Natalia quella che l'ha fatta di più ed è nel team perché questa frase non lo so non lo so cioè perché questo ragionamento contorto c'era davvero necessario vabbè non lo so lasciamo stare a volte non le voglio neanche sapere queste cose cioè forse è stato qualcuno che non è più nella compagnia avrei capito ma è nel team è sua compagna di squadra è Natalia vabbè lasciamo lasciamo perdere l'altro tra virgolette grande angle della puntata se vogliamo utilizzare questa definizione è la rottura della corona praticamente di Xavier Woods io spero che lui vada in giro con la corona rotta d'ora in poi con tutto rotto sempre King ma con tutti praticamente con tutti gli aggeggi rotti d'ora in poi più che altro perché ha la cosa la cosa diciamo ha portato all'apparizione di Big E all'interno della puntata di SmackDown per creare un pochettino più attesa per questo per questo match se vogliamo cioè comunque a livello a livello di angle diciamo di faida tra i due tra i due tra i due che sarebbe portato l'inizio era abbastanza palese che sarebbe successo ripeto dalle scorse settimane più che altro perché io ho avuto l'impressione sin da quando hanno iniziato questa questa cosa della bloodline sì che voleva sodomizzare il New Day ma no non così voleva anche voleva sottomettere il New Day così da quando siamo arrivati a SmackDown meglio pareva palese che il tutto era poi semplicemente fatto per arrivare poi a questo angle e al match con Ettore quindi comunque sotto quell'aspetto è un angle che va anche bene vediamo poi come va a finire sabato o domenica sarà un match bello probabilmente quello sì quello sì sul verdetto continuo a non avere dubbi personalmente penso che vincerà Roma io rimango sempre per Ettore secondo me potrebbe vincere Ettore vediamo io lo trovo più incerto di quello che si pensi questo match però vediamo va bene vediamo cosa accadrà nella notte tra domenica e lunedì ricordiamo gli appuntamenti tra l'altro per quanto riguarda il pay per view l'appuntamento con la live reaction è nella notte tra domenica e lunedì sul canale di maxisawesome su youtube da luna esatto youtube.com slash maxisawesome92 da luna il pre-show pre-show che potete vedere in diretta su youtube twitter twitch insomma sugli account della ww mentre invece il pay per view inizia alle 2 e quello lo potete vedere legalmente solamente sul ww network al costo di 9,99$ più tasse al mese noi ci sentiamo con il post pay per view con una botta calda vediamo quando vediamo quando registrarlo e poi nella serata di lunedì dall'ora 22 con l'appuntamento con il post con il post praticamente con il press cafe by night edizione l'ultima edizione credo del 2021 per quanto riguarda il press cafe by night post pay per view quanto meno per quanto riguarda la ww perché poi non ci sono più pay per view per quanto riguarda la ww a parte va bene c'è a parte nexty però non facciamo i post show per quanto riguarda quell'evento faremo però poi a botta calda confermato tra l'altro confermato tra l'altro diciamo il come posso dire confermato tra l'altro che inizia alle 2 anche quello perché c'è la pubblicità poi durante la puntata di nexty di questa di questa beh i nexty iniziano sempre alle 2 esatto esattamente va bene iniziavano le 1 anche quelli prima un tempo adesso poi da un po' di tempo questa parte l'hanno portato tutte le 2 e buonanotte sulle 2 va bene io ringrazio Mattia di Noi che mi ha fatto compagnia fino a questo momento per quanto riguarda la parte la parte di Survivor Series sì speriamo di non dover far postile quindi così abbiamo già finito esattamente grazie a voi che ci avete seguito fino a questo momento su Vresti Caffè ritorna il prossimo weekend con con la prima la no l'ultima puntata che lo scusa del mese di novembre gli appuntamenti ve li abbiamo dati lunedì sera e martedì sera i post i post show per quanto riguarda per quanto riguarda il pay per view su Vresti Caffè lunedì sera e martedì sera a Monday Night 3 siamo anche in onda martedì, mercoledì e giovedì per quanto riguarda le coppe europee con gli orari che trovate sulla nostra pagina di facebook facebook.com slash punto di cento e niente grazie per averci ascoltato buon Super Bowl Series a tutti quanti speriamo che sia uno solo divertente e rimanete sicuro l'appuntamento con noi e alla prossima ciao a tutti ciao